DEUTERONOMIO CAPITOLO PRIMO Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di Rada al Giordano nel deserto, nella pianura di rimpetto a Suf, fra Paran, Tofel, Laban, Aserot e di Zahab. Vi sono undici giornate dallo Oreb per la via del monte Seir fino a Cades Barnea. Il quarantesimo anno, l'undecimo mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figlioli di Israele secondo tutto quello che l'Eterno gli aveva ordinato di dir loro. Questo avvenne dopo che egli ebbe sconfitto Sihon, re degli Amorei, che abitava in Ashbon, e Og, re di Pasan, che abitava a Aserot in Edrei, di là dal Giordano nel paese di Moab. Mosè cominciò a spiegare questa legge dicendo L'Eterno lì Dio nostro ci parlò in Oreb e ci disse Voi avete dimorato abbastanza in queste montagne. Voltatevi partite e andate nella contrada montuosa degli Amorei e in tutte le vicinanze nella pianura, sui monti, nella regione bassa del Mezzogiorno, sulla costa del mare, nel paese dei Cananei e dal Libano fino al Gran Fiume, il fiume Eufrate. Ecco, io v'ho posto il paese di Nansi, entrate, prendete possesso del paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro progenie dopo di loro. In quel tempo io vi parlai e vi dissi, io non posso da solo sostenere il carico del popolo, e l'Eterno che è il vostro Dio vi ha moltiplicati, ed ecco che oggi siete numerosi come le stelle del cielo. L'Eterno, l'Idio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più, e vi benedica come vi ha promesso di fare. Ma come posso io da solo portare il vostro carico, il vostro peso e le vostre liti? Prendete nelle vostre tribù degli uomini savi, intelligenti e conosciuti, e io ve li stabilirò come capi. E voi mi rispondereste dicendo, ebbene che facciamo quel che tu proponi. Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini savi e conosciuti, e li stabilì sopra voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine, e come ufficiali nelle vostre tribù. E in quel tempo, detti quest'ordine ai vostri giudici. Ascoltate le cause dei vostri fratelli, e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere col fratello, o con lo straniero che sta da lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande, non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio, e le cause troppo difficili per voi, le recherete a me, e io le udirò. E così in quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare. Poi partimmo dall'Oreb, e attraversammo tutto quel grande e spaventevole deserto che avete veduto, dirigendoci verso la contrada montuosa degli amorei, come l'Eterno, l'Iddio nostro, ci aveva ordinato di fare, e giungemo a Cades Barnea. Allora vi dissi, siete arrivati alla contrada montuosa degli amorei che l'Eterno, l'Iddio nostro, ci dà. Ecco, l'Eterno, il tuo Dio, t'ha posto il paese d'innanzi, sali, prendene possesso come l'Eterno, l'Iddio dei tuoi padri, t'ha detto, non temere e non ti spaventare. E voi vi accostaste a me tutti quanti, e diceste, mandiamo degli uomini davanti a noi che ci esplorino il paese e ci riferiscano qualche cosa del cammino per il quale noi dovremmo salire e delle città alle quali dovremmo arrivare. La cosa mi piacque, e presi dodici uomini tra voi, uno per tribù, quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di Escol, ed esplorarono il paese. Presero con le loro mani dei frutti del paese, ce li portarono, e ci fecero la loro relazione, dicendo, quello che l'Eterno, il nostro Dio, ci dà, è un buon paese. Ma voi non voleste salirvi e vi ribellaste all'ordine dell'Eterno del vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende, e diceste, l'Eterno ci odia, per questo ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano degli amorei e per distruggerci. Dove saliamo noi? I nostri fratelli ci han fatto struggere il cuore, dicendo, questa gente è più grande e più alta di noi. Le città vi sono grandi e fortificate, fino al cielo, e abbiamo perfino visto colà dei figlioli di Anachim. E io vi dissi, non vi sgomentate, e non abbiate paura di loro, l'Eterno, il Dio vostro che vi va davanti, combatterei gli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai veduto come l'Eterno il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta il suo figliolo per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati a questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nell'Eterno nel Dio vostro, che andava dinanzi a voi nel cammino, per cercarvi un luogo da piantare le tende di notte nel fuoco, per mostrarvi la via per la quale dovevate andare, e di giorno nella nuvola. E l'Eterno udì le vostre parole, si adirò gravemente, e giurò dicendo, certo nessuno degli uomini di questa malvace generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai vostri padri. Salvo Caleb, figliolo di Ghefunne, egli lo vedrà, e a lui e ai suoi figlioli darò la terra che egli ha calcato, come ha pienamente seguito l'Eterno, e anche contro a me l'Eterno si adirò per via di voi, e disse, neanche tu la vedrai. Giosuè, figliolo di Nunche, ti serve e ventrerà, fortificalo, perché egli metterà Israele in possesso di questo paese, e i vostri fanciulli, dei quali avete detto, diventeranno tanta preda, e i vostri figlioli, che oggi non conoscono nel bene e nel male, sono quelli che ventreranno. A loro do possesso, ed essi saranno che lo possederanno. Ma voi, tornate indietro, e avviatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Allora voi rispondeste dicendo, abbiamo peccato contro l'Eterno. Noi saliremo e combatteremo interamente, come l'Eterno lì Dio nostro ci ha ordinato. E ognun di voi cinse le armi, e vi metteste temeramente a salire verso i monti, e l'Eterno mi disse, di loro. Non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo a voi, voi sarete sconfitti davanti ai vostri nemici. Io ve lo dissi, ma voi non mi deste ascolto, anzi, foste ribelli all'ordine dell'Eterno, foste presuntuosi, e vi metteste a salire verso i monti. Allora gli amorei, che abitano quella contrada montuosa, uscirono contro a voi, vi inseguirono come fanno le api, e vi batterono in ser fino a Orma. E voi tornaste e piangeste davanti all'Eterno, ma l'Eterno non dette ascolto alla vostra voce, e non vi porse orecchio. Così rimaneste in Cades molti giorni, e ben sapete quanti giorni vi siete rimasti. Deuteronomio, capitolo secondo Poi tornamo indietro, e partimmo per il deserto in direzione del Mar Rosso, come l'Eterno aveva detto, e girammo attorno al monte Seir per lungo tempo. E l'Eterno mi parlò dicendo, avete girato abbastanza attorno a questo monte, volgetevi verso Settentrione, e dà quest'ordine al popolo. Voi siete per passare i confini dei figlioli di Esau, vostri fratelli, che dimorano in Seir, ed essi avranno paura di voi. Siate quindi bene in guardia, e non muovete l'orguerra, poiché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne può calcare un piede, giacché ho dato il monte di Seir a Esau come sua proprietà. Comprerete da loro a denaro con tante le vettovaglie che mangerete, e comprerete pure da loro con denaro l'acqua che berrete, poiché l'Eterno, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo gran deserto, l'Eterno, il tuo Dio, è stato teco durante questi quarant'anni, e non ti è mancato nulla. Così passammo, lasciando a distanza i figlioli di Esau, i nostri fratelli, che abitano in Seir, e evitando la via della pianura come pure Elat e Ezion Geber. Poi ci volgemo e ci incamminamo verso il deserto di Moab, e l'Eterno mi disse, non attaccare Moab e non gli muovere guerra, perché io non ti darò nulla in possesso del suo paese, giacché ho dato Ar e ai figlioli di Lot come loro proprietà. Prima vi abitavano gli Emim, popolo grande e numeroso e alto di statura come gli Anachim. Erano anch'essi tenuti in conto da Refaim come gli Anachim, ma i Moabiti li chiamavano Emim. Anche Seir era prima abitata dagli Orrei, ma i figlioli di Esauli cacciarono, li distrussero, e si stabilirono in luogo loro, come ha fatto Israele nel paese che possiede e che l'Eterno gli ha dato. Ora, levatevi e passate il torrente Zered. E noi passammo il torrente di Zered. Era il tempo che durarono le nostre marce. Da Cades Barnea al passaggio del torrente di Zered fu di trentotto anni, finché tutta la generazione degli uomini di guerra scomparve interamente dal campo, come l'Eterno l'aveva loro giurato. E infatti la mano dell'Eterno fu contro loro per sterminarli dal campo, finché fossero del tutto scomparsi. E quando la morte ebbe finito di consumare tutti quegli uomini di guerra, l'Eterno mi parlò dicendo, «Oggi tu stai per passare i confini di Moab ad Ar, e ti avvicinerai ai figlioli di Amon. Non li attaccare, e non muover loro guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel paese dei figlioli di Amon, giacché l'ho data ai figlioli di Lot come loro proprietà». Anche questo paese era reputato paese di Refein. Prima vi abitavano i Refein, e gli Amoniti li chiamavano Zanzumim, popolo grande, numeroso, alto di statura, come gli Anachim. Ma l'Eterno li distrusse davanti agli Amoniti, che li cacciarono e si stabilirono nel loro luogo. Così l'Eterno aveva fatto per i figlioli di Esau, che abitavano in Seir, quando distrusse gli Orrei davanti a loro. Essi li cacciarono e si stabilirono nel loro luogo, e vi sono rimasti fino al dì d'oggi. E anche gli Avei, che dimoravano nei villaggi fino a Gaza, furono distrutti dai Kaftorei usciti da Kaftor, i quali si stabilirono nel loro luogo. Levatevi, partite, e passate la valle dell'Arnon. Ecco, io do in tuo potere Sihon, l'amoreo re di Eshbon, e il suo paese. Comincia a prenderne possesso e muovegli guerra. Oggi comincerò a ispirare paura e terrore di te ai popoli che sono sotto il cielo intero, sicché, all'udire la tua fama, tremeranno e saranno presi dall'angoscia dinanzi a te. Allora mandai ambasciatori dal deserto di Kedemoth a Sihon re di Eshbon con parole di pace, e gli feci dire, «Lasciami passare per il tuo paese. Io camminerò per la strada maestra senza voggermi né a destra né a sinistra. Tu mi venderai a denaro contante le vettovaglie che mangerò, e mi darai per denaro contante l'acqua che berrò. Permettimi semplicemente il transito, come m'ha fatto i figlioli di Eshbon che abitano a Seir, e i moabiti che abitano in Ar, finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il nostro Dio, ci dà. Ma Sihon, il re di Eshbon, non ci volle lasciar passare per il suo paese, perché l'Eterno, il tuo Dio, gli aveva indurito lo spirito e re sostinato il cuore per dartelo nelle mani, come di fatti oggi si vede. E l'Eterno mi disse, Vedi, ho principiato a dare in tuo potere Sihon e il suo paese. Comincia la conquista, impadronendoti del suo paese. Allora Sihon uscì contro a noi con tutta la sua gente per darci battaglia a Ihats, e l'Eterno, lì Dio nostro, ce lo dì nelle mani, e noi ponemmo in rotta lui, e i suoi figlioli, e tutta la sua gente. E in quel tempo prendemmo tutte le sue città, e votammo allo sterminio, in ogni città uomini, donne, bambini, non vi lasciamo anima viva, ma riservamo come nostra preda il bestiame e le spoglie della città che avevamo prese. Da Aroer, che è sull'orlo della valle di Arnon, e dalla città che è nella valle fino a Galahad, non vi fu città che fosse troppo forte per noi. L'Eterno, lì Dio nostro, le diet tutte in nostro potere. Ma non ti avvicinasti al paese dei figlioli di Amon, ad alcun luogo toccato dal torrente di Abok, alle città del paese montuoso, a tutti i luoghi che l'Eterno, il nostro Dio, ci aveva proibito di attaccare. Deuteronomio, capitolo terzo Noi le votammo allo sterminio, come avevamo fatto di Sion, re di Eshpon, votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini, ma riservamo come nostra preda tutto il bestiame e le spoglie della città. In quel tempo, dunque, prendemo ai due re degli Amorei il paese che è al di là del Giordano, dalla valle dell'Arnon, al monte Ermon, il quale Ermon, i Sidoniti chiamavano Sirion, e gli Amorei Senir. Tutte le città della pianura, tutto Galad, tutto Basam, fino a Serea e a Drei, città del regno di Og in Basam, poiché Og, re di Basam, era rimasto solo della stirpe di Refrain. Ecco il suo letto, un letto di ferro, non è esso a Raba degli Ammoniti? Ha nove cubiti di lunghezza e quattro cubiti di larghezza, a misura di un cubito ordinario d'uomo. Fu allora che ci impossessamo di questo paese, io, detti a Erubeniti e a Egaditi, il territorio che si parte da Aroer, presso la valle dell'Arnon, e la metà della contrada montuosa di Gala, con le sue città, detti alla mezza tribù di Menasse, il regno di Galad, e tutto il regno di Og in Basam, tutta la regione di Argaob, con tutto Basam, che si chiama il paese dei Refrain. Jair, figliolo di Menasse, prese tutta la regione di Argaob, sino ai confini dei Getsuriti e dei Mahakatiti, e chiamò col suo nome le borgate di Basam, che si nominano anche oggi Avot Jair, e detti Galad a Makir, e ai Rebuniti, ai Gaditi, detti una parte di Galad, il paese, fino alla valle dell'Arnon, fino al mezzo della valle che serve di confine, fino al torrente di Jabok, frontiera dei figlioli di Amon, e la pianura col Giordano che ne segna il confine, da Kineret, fino al mare della pianura, al mare salato, a piede le pendici del Pisgah, verso l'Oriente. Ora, in quel tempo, io vi detti quest'ordine, dicendo, l'Eterno il vostro Dio vi ha dato questo paese, perché lo possediate, voi tutti uomini di valore, marcelete armati alla testa dei figlioli di Israele e vostri fratelli. Ma le vostre moglie, i vostri fanciulli e il vostro bestiame, so che del bestiame ne avete molto, rimarranno nelle città che vi ho date, finché l'Eterno abbia dato riposo ai vostri fratelli, come ha fatto a voi, e prendano anch'essi possesso del paese che l'Eterno il Dio vostro dà loro al di là del Giordano. Poi, ciascuno tornerà nel possesso che vi ho dato. In quel tempo, detti anche a Giosuè quest'ordine, dicendo, i tuoi occhi hanno veduto tutto quello che l'Iddio vostro l'Eterno ha fatto a questi due re. Lo stesso farà l'Eterno a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temere, perché l'Eterno, il vostro Dio, è quelli che combatte per voi. In quel medesimo tempo, io supplicai l'Eterno, dicendo, O Signore, o Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché qual è l'Iddio in cielo sulla terra che possa fare delle opere e dei portenti pari a quelli che fai tu? De, lascia che io passi e vegga il bel paese che è oltre al Giordano e la bella contrada montuosa e il Libano. Ma l'Eterno si adirò contro di me per cagion vostra e non mi esaudì. E l'Eterno mi disse, basta così, non mi parlare più di questa cosa. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a Occidente, a Settentrione, a Mezzogiorno e a Oriente, e contempla il paese con gli occhi tuoi, poiché tu non passerai questo Giordano, ma dà i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di rimpetto a Bet Peor. Deuteronomio capitolo quarto Ora, dunque, Israele dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegnerò, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti dell'Eterno e dell'Iddio vostro che io vi prescrivo. Gli occhi vostri videro ciò che l'Eterno fece nel caso di Baal Peor, come l'Eterno e il tuo Dio distrusse di mezzo a te tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor, ma voi, che vi teneste stretti all'Eterno e all'Iddio vostro, siete oggi tutti in vita. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come l'Eterno, l'Iddio mio mi ha ordinato, affinché le mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, poiché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è, di fatti, la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno, l'Iddio vostro, è vicino a noi ogni volta che l'invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia delle leggi e delle prescrizioni giuste, com'è tutta questa legge che vi espongo quest'oggi? Soltanto bada bene a te stesso e veglia diligentemente sull'anima tua, onde non avega che tu ti dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute, ed esse non t'escano dal cuore finché ti duri la vita. Falle anzi sapere ai tuoi figlioli e ai figlioli dei tuoi figlioli. Ricordati del giorno che comparisti davanti all'Eterno, all'Iddio tuo, in Horeb, quando l'Eterno mi disse, adunami il popolo, e io farò loro dire le mie parole, onde si imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figlioli. E voi vi avvicinaste e vi fermaste a piede del monte, e il monte era tutto in fiamme, che si innalzavano su fino al cielo, e veran tenebre nuvole d'oscurità, e l'Eterno vi parlò di mezzo al fuoco, e voi udiste il suono delle parole, ma non ne vedeste alcuna figura, non udiste che una voce. Ed Egli vi promulgò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè le dieci parole, le scrisse su due tavole di pietra, e a me in quel tempo l'Eterno ordinò di insegnarvi legge e prescrizioni, perché voi le metteste in pratica nel paese dove state per passare, per prenderne possesso. Or dunque, siccome non vedeste alcuna figura, il giorno che l'Eterno vi parlò in Horeb in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre, affinché non vi corrompiate, e vi facciate qualche immagine scolpita, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo, d'una donna, la figura di un animale tra quelli che vi sono sulla terra, la figura d'un uccello che vola nei cieli, la figura d'una bestia che si striscia sul suolo, la figura d'un pesce che vive nelle acque sotto la terra, ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna e le stelle e tutto l'esercito celeste, non sia tratto a prostrarvi davanti a quelle cose ed offrir loro un culto. Queste cose sono il retaggio che l'Eterno l'idio tuo ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli, ma voi l'Eterno vi ha presi e vi ha tratti fuori dalla fornace di ferro dall'Egitto, perché foste un popolo che gli appartenesse un proprio come oggi di fatti siete. Or l'Eterno si adirò contro di me per cagione vostra e giurò che io non passerei il Giordano e non entrerei nel buon paese che l'Eterno l'idio tuo ti dà in eredità, poiché io dovrò morire in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno il vostro Dio ha fermato con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita o rappresentazione di qualsivoglia cosa che l'Eterno l'idio tuo t'abbia proibita, poiché l'Eterno il tuo Dio è un fuoco consumante e un Dio geloso. Quando avrai dei figlioli e dei figlioli dei tuoi figlioli e sarete stati lungo tempo nel paese, se vi corromperete, se vi fate delle immagini scolpite, delle rappresentazioni di qualsiasi cosa, se fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno che è l'Idio vostro per irritarlo, io chiamo oggi in testimonio contro di voi il cielo e la terra che voi ben presto perirete scomparendo dal paese di cui andate per prendere possesso al di là del Giordano. Voi non vi prolungherete i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti, e l'Eterno vi disperderà fra i popoli e non resterete più che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà, e qui vi servirete a dei fatti da mano d'uomo, dei di legno e di pietra i quali non vedono, non odono, non mangiano, non fiutano, ma di là cercherai l'Eterno il tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Nell'angoscia tua, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, negli ultimi tempi tornerai all'Eterno all'Idio tuo e darai ascolto alla sua voce, poiché l'Eterno l'Idio tuo è un Dio pietoso, Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che girò ai tuoi padri, interroga pure i tempi antichi che furono prima di te dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra. Ci fu Egli mai cosa così grande come questa, e si due Egli mai cosa simile a questa? Ci fu Egli mai, popolo, che udisse la voce di Dio parlante in mezzo al fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo? Ci fu Egli mai un Dio che provasse di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano potente, con braccio steso e con grandi terrori, come fece prevo l'Eterno lì Dio vostro in Egitto sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio e che non venne altri fuori di Lui. Dal cielo t'ha fatto dire la Sua voce per ammaestrarti e sulla terra t'ha fatto vedere il Suo gran fuoco e tu hai udito le Sue parole di mezzo al fuoco e perché Egli ha amato i tuoi padri e ha scelto la loro progenie dopo loro e Degli stesso in persona ti ha tratto dall'Egitto con la Sua grande potenza per cacciare dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso come oggi si vede. Sappi dunque oggi e ritieni bene in cuor tuo che l'Eterno è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra e che non venne alcun altro. Osserva dunque le Sue leggi e i Suoi comandamenti che oggi ti do affinché sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di te affinché tu prolunghi in perpetuo i tuoi giorni nel paese che l'Eterno l'Iddio tuo ti dà. Allora Mosè appartò tre città di là dal Giordano verso Oriente perché servissero di rifugio all'omicida che avesse ucciso il suo prossimo involontariamente senza averlo odiato per là dietro e perché gli potesse aver salvo la vita ricoverandosi in una di quelle città esse furono Bezer nel deserto nella regione piana per i Rubeniti Ramot in Galad per i Galatidi e Golang in Baza per i Manasiti Or questa è la legge che Mosè espose ai figlioli di Israele queste sono le istruzioni le leggi e le prescrizioni che Mosè dette ai figlioli di Israele quando furono usciti dall'Egitto di là dal Giordano nella valle di rimpetto a Beth Peor nel paese di Sion re degli Amorei che dimorava in Heshbon e che Mosè e i figlioli di Israele sconfissero quando furono usciti dall'Egitto essi si impossessarono del paese e di lui nel paese di Og re di Basan due re degli Amorei che stavano di là dal Giordano verso l'Oriente da Aroer che è sull'orlo della valle dell'Arnon fino al monte Sion che è lo Hermon con tutta la pianura oltre il Giordano verso l'Oriente e fino al mare della pianura a pie delle pendici del Pisgah Deuteronomio capitolo quinto Mosè convocò tutto Israele e disse loro Ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo dinanzi a voi imparatele e mettetele diligentemente in pratica l'Eterno lì Dio nostro fermò con noi un patto in Oreb l'Eterno non fermò questo patto con i nostri padri ma con noi che siamo qui oggi tutti quanti in vita l'Eterno vi parlò faccia a faccia sul monte di mezzo al fuoco io stavo allora fra l'Eterno e voi per riferirvi la parola dell'Eterno poiché voi avevate paura di quel fuoco non saliste sul monte e gli disse io sono l'Eterno l'Idio tuo che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù non avere altri dèi nel mio cospetto non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non triprostrare davanti a quelle cose e non servir loro perché io l'Eterno il tuo Dio sono un Dio geloso che punisco le iniquità dei padri sopra i figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che modiano ed uso benignità fino a mille generazioni verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti non usare il nome dell'Eterno il tuo Dio in vano poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano osserva il giorno del riposo per santificarlo come l'Eterno l'Idio tuo ti ha comandato lavora sei giorni e fai in essi tutta l'opera tua ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato all'Eterno al tuo Dio non fare in esso lavoro alcuno né tu né il tuo figliuolo né la tua figliola né il tuo servo né la tua serva né il tuo bue né il tuo asino né alcuna delle tue bestie né il tuo forestiero che sta dentro le tue porte affinché il tuo servo e la tua serva riposino come tu e ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno l'Idio tuo ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso perciò l'Eterno il tuo Dio ti ordina ad osservare il giorno del riposo onora onora tuo padre e tua madre come l'Eterno l'Idio tuo ti ha comandato affinché i tuoi giorni siano prolungati e tu sii felice sulla terra che l'Eterno l'Idio tuo ti dà non uccidere non commettere adulterio non rubare non attestare il falso contro il tuo prossimo non concupire la moglie del tuo prossimo e non bramare la casa del tuo prossimo nel suo campo nel suo servo nella sua serva nel suo bue nel suo asino né cosa alcuna che sia del tuo prossimo queste parole pronunziò l'Eterno parlando a tutta la vostra radunanza sul monte di mezzo al fuoco alla nuvola all'oscurità con voce forte e non aggiunse altro le scrisse su due tavole di pietra e me le dette or come udiste la voce che usciva dalle tenebre mentre il monte era tutto in fiamme i vostri capi i vostri anziani si accostarono tutti a me e diceste ecco l'Eterno l'Idio nostro ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udito la sua voce di mezzo al fuoco oggi abbiamo veduto che Dio ha parlato con l'uomo e l'uomo è rimasto vivo or dunque perché morremo noi giacché questo gran fuoco ci consumerà se continuiamo a udire ancora la voce dell'Eterno dell'Idio nostro noi morremo poiché qual è il mortale chiunque gli sia che abbia udito come noi la voce dell'Idio vivente parlare di mezzo al fuoco e sia rimasto vivo accostati tu e ascolta tutto ciò che l'Eterno il nostro Dio dirà e ci riferirai tutto ciò che l'Eterno l'Idio nostro ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo e l'Eterno di le vostre parole mentre mi parlavate e l'Eterno mi disse io ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolte tutto quello che hanno detto sta bene o avessero pur sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti per essere felici in perpetuo essi e i loro figlioli va e di loro tornate alle vostre tende ma tu resta qui meco e io ti dirò tutti i comandamenti tutte le leggi e le prescrizioni che insegnerai loro perché le mettano in pratica nel paese di cui do loro il possesso abbiate dunque cura di far ciò che l'Eterno l'Idio vostro vi ha comandato non ve ne sviate né a destra né a sinistra camminate in tutto e per tutto per la via che l'Eterno il vostro Dio vi ha prescritta affinché viviate e siate felici e prolungate i vostri giorni nel paese di cui avrete il possesso Deuteronomio capitolo sesto or questi sono i comandamenti le leggi e le prescrizioni che l'Eterno il vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per passare per prenderne possesso affinché tu tema l'Idio tuo l'Eterno osservando tutti i giorni della tua vita tu il tuo figliuolo e il figliuolo del tuo figliuolo tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do e affinché i tuoi giorni siano prolungati ascolta dunque Israele ed abbi cura di metterle in pratica affinché tu sii felice e moltiplichiate grandemente nel paese dove scorre il latte e il miele come l'Eterno l'Idio dei tuoi padri ti ha detto ascolta Israele l'Eterno l'Idio nostro è l'unico Eterno tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze e questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore li inculcherai ai tuoi figliuoli ne parlerai quando te ne stai seduto in casa tua quando sarai per via quando ti coricherai e quando ti alzerai te li legherai alla mano come un segnale e ti saranno come frontali fra gli occhi e li scriverai sugli stipidi della tua casa e sulle tue porte e quando l'Eterno l'Idio tuo ti avrà fatto entrare nel paese che girò ai tuoi padri ad Abramo Isacco e Giacobbe quando ti avrà menato alle grandi e buone città che tu non hai edificato alle case piene d'ogni bene che tu non hai riempite alle cisterne scavate che tu non hai scavate alle vigne agli oliveti che tu non hai piantati e quando mangerai e sarai satollo guardati dal dimenticare l'Eterno che ti ha tratto dal paese dell'Egitto e dalla casa di schiavitù temerai l'Eterno l'Idio tuo lo servirai e giurerai per il suo nome non andrete dietro ad altri dei fra gli dei dei popoli che vi stanno attorno perché l'Idio tuo l'Eterno che sta in mezzo a te è un Dio geloso l'ira dell'Eterno dell'Eterno l'Idio tuo si accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla terra non tenterete l'Eterno il vostro Dio come lo tentaste a massa osserverete osserverete diligentemente i comandamenti dell'Eterno che è lì Dio vostro e le sue istruzioni e le sue leggi che va date e farai ciò che è giusto e buono agli occhi dell'Eterno affinché tu sii felice ed entri in possesso del buon paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti dopo che avrai cacciati tutti i tuoi nemici dinanzi a te come l'Eterno ti ha promesso quando in avvenire il tuo figliolo ti domanderà che significano queste istruzioni queste leggi e queste prescrizioni che l'Eterno l'Idio nostro vi ha date tu risponderai al tuo figliolo eravamo schiavi di Faraone in Egitto e l'Eterno ci trasse dall'Egitto con mano potente e l'Eterno però sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrossi contro l'Egitto contro Faraone e contro tutta la sua casa e ci trasse di là per condursi nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci e l'Eterno ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi temendo l'Eterno l'Idio nostro affinché fossimo sempre felici ed Egli ci conservasse in vita come ha fatto finora e questa sarà la nostra giustizia l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti nel cospetto dell'Eterno l'Idio nostro che Egli ci ha ordinato Deuteronomio capitolo settimo quando l'Idio tuo l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dove vai per prenderne possesso e ne avrà cacciate dinanzi a te le molte nazioni gli Tei i Ghirgasei gli Amorei i Cannei i Ferezei gli Ivei i Ghebusei sette nazioni più grandi e più potenti di te e quando l'Eterno l'Idio tuo le avrà date in tuo potere e tu le avrai sconfitte tu le voterai allo sterminio non farai con esse alleanza né farai loro grazia non ti imparenterai con loro e non darai le tue figliuole ai loro figliuoli e non prenderai le loro figliuole per i tuoi figliuoli perché stornerebbero i tuoi figliuoli dal seguire me per farti servire a dei stranieri e l'ira dell'Eterno si accenderebbe contro a voi ed egli ben presto vi distruggerebbe ma farete loro così demolirete i loro altari spezzerete le loro statue abbatterete i loro idoli e darete alle fiamme le loro immagini scolpite poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno che l'Idio tuo l'Eterno l'Idio tuo ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra l'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli che anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo ma perché l'Eterno vi ama perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri l'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha riedenti dalla casa di schiavitù dalla mano di faraone re d'Egitto riconosci dunque che l'Eterno l'Idio tuo è Dio l'Idio fedele che mantiene il suo patto la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti ma rende immediatamente a quelli che l'odiano ciò che si meritano distruggendoli non differisce ma rende immediatamente a chi l'odia ciò che si merita osserva dunque i comandamenti le leggi le prescrizioni che oggi ti do mettendoli in pratica e avverrà che per aver voi dato ascolto a queste prescrizioni e per averle osservate e messe in pratica il vostro Dio l'Eterno vi manterrà il patto e la benignità che promise con giuramento ai vostri padri egli tamerà ti benedirà ti moltiplicherà benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo il tuo frumento il tuo mosto e il tuo olio il figliare delle tue vacche e delle tue pecole nel paese che giurò ai tuoi padri di darti tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarai in mezzo a te né uomo né donna sterile né animale sterile fra il tuo bestiame l'Eterno allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te alcuno dei morbi funesti d'Egitto che ben conoscesti ma li farà venire addosso a quelli che t'odiano sterminerai dunque tutti i popoli che l'Eterno l'Idio tuo sta per darti in tuo potere l'occhio tuo non abbia pietà e non servire agli dei loro perché ciò ti sarebbe un laccio forse dirai in cuor tuo queste nazioni sono più numerosi di me come potrò io cacciarle non le temere ricordati di quello che l'Eterno il tuo Dio fece a Faraone e a tutti gli egiziani ricordati delle grandi prove che vedesti con gli occhi tuoi dei miracoli dei prodigi della mano potente del braccio stesso con i quali l'Eterno l'Idio tuo ti trasse dall'Egitto così farà l'Eterno l'Idio tuo a tutti i popoli dei quali hai timore l'Eterno il tuo Dio manderà pure contro a loro i calabroni affinché quelli che saranno rimasti e quelli che si saranno nascosti per paura di te siano periti non ti sgomentare per via di loro poiché l'Idio tuo l'Eterno è in mezzo a te Dio grande e terribile e l'Eterno l'Idio tuo cacerà a poco a poco queste nazioni dinanzi a te tu non le potrai distruggere a un tratto perché altrimenti le fiere della campagna moltiplicherebbero al tuo danno ma il tuo Dio l'Eterno le darà in tuo potere e le metterà interamente in rotta finché siano distrutte ti darai nelle mani il loro re e tu farai scomparire i loro nomi di sotto ai cieli nessuno potrà starti a fronte finché tu le abbia distrutte darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dèi non agognerai e non prenderai per te l'argento che è su queste onde tu non abbia a esserne preso come da un laccio poiché sono un'abominazione per l'Eterno che è l'Idio tuo e non introdurrai cosa abominevole in casa tua perché saresti maledetto come quella cosa la distrerei e l'abominerei assolutamente perché è un interdetto Deuteronomio capitolo ottavo abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do affinché viviate moltiplicate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri ricordati di tutto il cammino che l'Eterno l'Idio tuo ti ha fatto fare questi quarant'anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti egli dunque t'ha umiliato t'ha fatto provare la fame poi t'ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non aveva mai conosciuta per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato il tuo vestito non ti sei allogorato addosso e il tuo pie non sei gonfiato durante questi quarant'anni riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il suo figliolo così l'Idio tuo l'Eterno corregge te e osserva i comandamenti dell'Eterno dell'Idio tuo camminando nelle sue vie e te mendolo perché il tuo Dio l'Eterno sta per farti entrare in un buon paese paese di corsi d'acque di laghi di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti paese di frumento d'orso di vigne di ficchi di melagrani paese d'ulivi da olio e di miele paese dove mangerai del pane a volontà dove non ti mancherà nulla paese dove le pietre son ferro e da cui monti scaverai il rame mangerai dunque e ti sazierai e benedirai l'Eterno il tuo Dio a motivo del buon paese che t'avrà dato guardati bene dal dimenticare il tuo Dio l'Eterno al punto da non osservare i suoi comandamenti le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do onde non avvenga dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai edificato e abitato delle belle case dopo che avrai veduto il tuo grosso e il tuo minuto bestiame moltiplicare a crescersi il tuo argento e il tuo oreo e a bondare ogni cosa tua che il tuo cuore si innalzi e tu dimentichi il tuo Dio l'Eterno che ti ha tratto dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù che t'ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto pieno di serpenti ardenti e di scorpioni terra arida senza acqua che ha fatto sgorgare per te dell'acqua dalla durissima rupe che nel deserto t'ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano mai conosciuta per umiliarti e per provarti per farti alla fine del bene guardati dunque dal dire in cuor tuo la mia forza e la mia potenza della mia mano m'hanno acquistato delle ricchezze ma ricordati dell'Eterno dell'Idio tuo poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze al fin di confermare come fa oggi il patto che girò ai tuoi padri ma se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio l'Eterno e vada dietro agli altri dèi e li serva e ti prostri davanti a loro io vi dichiaro quest'oggi solennemente che per certo perirete perirete come le nazioni che l'Eterno fa perire davanti a voi perché non avete dato ascolto alla voce dell'Eterno dell'Idio vostro Deuteronomio capitolo nono Ascolta Israele oggi tu stai per passare il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te di città grandi e fortificate fino al cielo di un popolo grande e alto di statura dei figlioli di Anachim che tu conosci e dei quali hai sentito dire che mai può stare a fronte dei figlioli di Anach sappi dunque oggi che l'Eterno il tuo Dio è quelli che marcerà la tua testa come un fuoco divorante e li distruggerà e li abbatterà davanti a te tu li scaccerai e li farai perire in un attimo come l'Eterno ti ha detto quando l'Eterno il tuo Dio li avrà cacciati via dinanzi a te non dire nel tuo cuore a cagione della mia giustizia l'Eterno mi ha fatto entrare in possesso di questo paese poiché l'Eterno caccia dinanzi a te queste nazioni per la loro malvagità no tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia né a motivo della tua rettitudine del cuore ma l'Eterno il tuo Dio sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri ad Abramo ad Isacco e a Giacobbe sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno il tuo Dio ti dà il possesso di questo buon paese poiché tu sei un popolo di collo duro ricordati non dimenticare come hai provocato a dire l'Eterno il tuo Dio nel deserto dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli all'Eterno anche a Re provocasti a dire all'Eterno e l'Eterno si adirò contro di voi al punto di volervi distruggere quando io fui salito sul monte a prendere le tavole di pietra le tavole del patto che l'Eterno aveva fermato con voi io rimasi sul monte quaranta giorni e quaranta notte senza mangiare pane né bere acqua e l'Eterno mi dette le due tavole di pietra scritte col dito di Dio sulle quali stavano tutte le parole che l'Eterno vi aveva dette sul monte di mezzo al fuoco il giorno della radunanza e fu alla fine dei quaranta giorni e delle quaranta notti che l'Eterno mi dette le due tavole di pietra le tavole del patto poi l'Eterno mi disse elevati scendi prontamente di qui perché il tuo popolo che hai tratto dall'Egitto si è corrotto hanno ben presto lasciato la via che io avevo loro ordinato di seguire si sono fatti un'immagine di getto l'Eterno mi parlò ancora dicendo io l'ho visto questo popolo ecco esso è un popolo di collo duro lasciami fare io li distruggerò e cancellerò il loro nome di sotto i cieli e farò di te una nazione più potente e più grande di loro così così io mi volsi e scesi dal monte dal monte tutto in fiamme tenendo nelle mie due mani le due tavole del patto guardai ed ecco che avevate peccato contro l'Eterno il vostro Dio veravate fatto un vitello di getto avevate ben presto lasciata la via che l'Eterno vi aveva ordinato di seguire ed io afferrai le due tavole le gettai dalle mie due mani e le spezzai sotto i vostri occhi poi mi prostrai davanti all'Eterno come avevo fatto la prima volta per quaranta giorni e per quaranta notti non mangiai pane né bevi acqua a cagione del gran peccato che avevate commesso facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno per irritarlo poiché io avevo paura a veder l'ira e il furore da cui l'Eterno era invaso contro di voi al punto di volervi distruggere ma l'Eterno mi esaudì anche questa volta e l'Eterno s'adirò anche fortemente contro Aronne al punto di volerlo far perire ed io pregai in quell'occasione anche per Aronne poi presi il corpo del vostro delitto il vitello che avevate fatto lo detti alle fiamme lo feci a pezzi frantumandolo finché fosse ridotto in polvere e buttai quella polvere nel torrente che scende dal monte anche a Tabeera a Massa e a Chibrot a Tava voi irritaste l'Eterno e quando l'Eterno vi volle far partire da Cades Barnea dicendo salite e impossessatevi del paese che io vi do voi vi ribellaste all'ordine dell'Eterno del vostro Dio non aveste fede in Lui e non ubbidiste alla Sua voce siete stati ribelli all'Eterno dal giorno che vi conobbi io stetti dunque così prostrato davanti all'Eterno quei quaranta giorni e quelle quaranta notti perché l'Eterno aveva detto di volervi distruggere e pregai l'Eterno e dissi oh Signore oh Eterno non distruggere il tuo popolo la tua eredità che hai redento nella tua grande grandezza e che hai tratto dall'Egitto con mano potente ricordati dei tuoi servi Abramo Isacco e Giacobbe non guardare alla caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato affinché il paese donde ci hai tratti non dica siccome l'Eterno non era capace di introdurli nella terra che aveva loro promessa e siccome li odiava li ha fatti uscir di qui per farli morire nel deserto e non di meno essi sono il tuo popolo la tua eredità che tu traesti dall'Egitto con la tua gran potenza e col tuo braccio stesso Deuteronomio capitolo decimo in quel tempo l'Eterno mi disse tagliati due tavole di pietra simile alle prime e sali da me sul monte fatti anche un'arca di legno e io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che tu spezzasti e tu le metterai nell'arca io feci allora un'arca di legno da caccia e tagliai due tavole di pietra simile alle prime poi salì sul monte tenendo le due tavole in mano e l'Eterno scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la prima volta e cioè le dieci parole che l'Eterno aveva pronunziate per voi sul monte di mezzo al fuoco il giorno della radunanza e l'Eterno me le diede allora mi volsi e scesi dal monte misi le tavole nell'arca che avevo fatta e qui vi stanno come l'Eterno mi aveva ordinato ora i figliuoli di Israele partirono da Be'erot Bene Giacan per Mosera qui vi morì Aronne e qui vi fu sepolto ed Eleazar suo figliuolo divenne sacerdote al posto di lui di là partirono alla volta di Gudgoda e da Gudgoda alla volta di Jotbatha paese di corsi d'acqua in quel tempo l'Eterno separò la tribù di Levi per portare l'arca del patto dell'Eterno per stare davanti all'Eterno ed essere suoi ministri e per darla benedizioni nel nome di lui come ha fatto sino al di oggi perciò Levi non ha parte né eredità coi suoi fratelli l'Eterno è la sua eredità come gli ha detto l'Eterno l'Idio tuo or io rimasi sul monte come la prima volta quaranta giorni e quaranta notti e l'Eterno mi esaudì anche questa volta l'Eterno non ti volle distruggere l'Eterno mi disse levati mettiti in cammino alla testa del tuo popolo ed entrino essi nel paese che giurai a loro padri di dar loro e ne prenderanno possesso ed ora Israele che chiede da te l'Eterno il tuo Dio se non che tu tema l'Eterno il tuo Dio che tu cammini in tutte le sue vie che tu l'ami e serva l'Eterno che è il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua che tu osservi per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e le sue leggi che oggi ti do ecco all'Eterno al tuo Dio ti appartengono i cieli e i cieli dei cieli la terra e tutto quanto essa contiene ma soltanto nei tuoi padri l'Eterno pose affezione e li amò e dopo loro fra tutti i popoli scelse la loro progenie cioè voi come oggi si vede circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo poiché l'Eterno il vostro Dio è l'iddio degli dèi il Signore dei Signori l'iddio grande forte e tremendo che non ha riguardi personali e non accetta presenti che fa giustizia all'orfano e alla vedova che ama lo straniero e gli dà pane e vestito amate dunque lo straniero poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto temi l'Eterno il tuo Dio e Lui servi tienti stretto a Lui e giura nel suo nome egli è l'oggetto delle tue lodi egli è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno vedute i tuoi padri scesero in Egitto in numero di settanta persone ed ora l'Eterno il tuo Dio ha fatto di te una moltitudine pari alle stelle dei cieli Deuteronomio capitolo undicesimo ama dunque l'Eterno il tuo Dio e osserva sempre quel che ti dice d'osservare le sue leggi le sue prescrizioni e i suoi comandamenti e riconoscete oggi poiché non parlo ai vostri figlioli che non hanno conosciuto né hanno veduto le lezioni dell'Eterno del vostro Dio riconoscete la sua grandezza la sua mano potente il suo braccio stesso i suoi miracoli le opere che fece in mezzo all'Egitto contro Faraone e Red Egitto e contro il suo paese e quel che fece all'esercito dell'Egitto ai suoi cavalli ai suoi carri come fece rifluir su di loro le acque del Mar Rosso quando essi vi inseguivano e come li distrusse per sempre e quel che ha fatto per voi nel deserto fino al vostro arrivo in questo luogo e quel che fece a Datam ad Abiram ai figlioli di Eliab figliolo di Ruben come la terra spalancò la sua bocca e l'inghiottì con le loro famiglie le loro tende e tutti quelli che erano a loro seguito in mezzo a tutto Israele poiché gli occhi vostri hanno veduto le grandi cose che l'Eterno ha fatte osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese nel quale state per entrare per impadronirvene e affinché prolungate i vostri giorni sul suolo che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri e alla loro progenie terra dove scorre il latte e il miele poiché il paese del quale state per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dove siete usciti e nel quale gettavi la sua semenza e poi l'annaffiavi con i tuoi piedi come si fa d'un orto ma il paese in cui andate a prendere possesso è paese di monti e di valli che beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo paese del quale l'Eterno il tuo Dio ha cura e sul quale stanno del continuo gli occhi dell'Eterno del tuo Dio dal principio dell'anno sino alla fine e se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do amando il vostro Dio l'Eterno e servendoli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra avverrà che io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo la pioggia d'atunno e di primavera perché tu possa raccogliere il tuo grano il tuo vino e il tuo olio e farò pure crescere dell'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame e tu mangerai e sarai saziato vegliate su voi stessi onde il vostro cuore non sia sedotto e voi lasciate la retta via e servite a dei straniere e vi prostriate dinanzi a loro e si accenda contro di voi l'ira dell'Eterno ed egli chiude i cieli in guisa che non vi sia più pioggia e la terra non dia più i suoi prodotti e voi periate ben presto scomparendo dal buon paese che l'Eterno vi dà vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole ve le legherete alla mano come un segnale e vi saranno come frontali fra gli occhi le insegnerete ai vostri figlioli parlandone quando te ne starai seduto in casa tua quando sarai per viaggio e quando ti coricherai e quando ti alzerai e le scriverai sugli stipidi della tua casa e sulle tue porte affinché i vostri figlioli e i giorni dei vostri figlioli nel paese che l'Eterno giurò ai vostri padri di dar loro siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra poiché se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica amando l'Eterno il vostro Dio camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui l'Eterno cacerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro i vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano dal fiume il fiume Ofrate al mare occidentale nessuno vi potrà stare a fronte l'Eterno il vostro Dio come vi ha detto spanderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete guardate io pongo oggi dinanzi a voi la benedizione e la maledizione la benedizione se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno del vostro Dio i quali oggi vi do la maledizione se non ubbidite i comandamenti dell'Eterno del Dio vostro e se vi allontanate dalla via che oggi vi prescrivo per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuti e quando l'Eterno il tuo Dio t'avrà introdotto nel paese nel quale vai per prenderne possesso tu pronuncerai la benedizione sul monte Gerasim e la maledizione sul monte Ebal questi monti non sono essi di là dal Giordano dietro la via di Ponente e nel paese dei Cananei che abitano nella pianura di Rimpeto a Gilgal presso le querce di Morè poiché voi siete per passare il Giordano per andare a prendere possesso del paese che l'Eterno lì Dio vostro vi dà voi lo possederete e vi abiterete abbiate dunque cura di mettere in pratica tutte le leggi e le prescrizioni che oggi io pongo dinnanzi a voi Deuteronomio capitolo dodicesimo queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura d'osservare nel paese che l'Eterno l'Iddio dei tuoi padri ti dà perché tu lo possegga tutto il tempo che vivrete sulla terra distruggerete interamente tutti i luoghi dove le nazioni che sono state per cacciare servono ai loro dei sugli alti monti sui colli e sotto qualunque albero verdeggiante demolirete i loro altari spezzerete le loro statue darete alle fiamme i loro idoli da starte abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi non così farete riguardo all'Eterno al Dio vostro ma lo cercherete nella sua dimora nel luogo che l'Eterno il vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome e qui vi andrete qui vi recherete i vostri olocausti i vostri sacrifici le vostre decime quel che le vostre mani avranno prelevato le vostre offerte offerte votive e le vostre offerte volontarie e i primogeniti dei vostri armenti e dei vostri greggi e qui vi mangerete davanti all'Eterno che è il vostro Dio e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie godendo di tutto ciò che avrete messo mano e in cui l'Eterno il vostro Dio vi avrà benedetti non farete come facciamo oggi qui dove ognuno fa tutto quel che gli par bene perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità dell'Eterno il vostro Dio vi dà ma passerete il Giordano e abiterete il paese che l'Eterno il vostro Dio vi dà in eredità e avrete requi da tutti i vostri nemici che vi circondano e sarete stanziati in sicurtà e allora cercherete al luogo che l'Eterno il vostro Dio avrà scelto per dimora del suo nome tutto quello che vi comando i vostri olocausti e i vostri sacrifizi e tutte le vostre decime quel che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte e scelte che avrete votate all'Eterno e vi rallegrerete ed innanzi all'Eterno il vostro Dio voi i vostri figliuoli le vostre figliuole i vostri servi le vostre serve e il levita che sarà entro le vostre porte poiché Egli non ha né parte né possesso tra voi allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo vedrai ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che l'Eterno avrà scelto in una delle tue tribù e qui vi farai tutto quello che ti comando però potrai a tuo piacere scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città secondo la benedizione che l'Eterno ti avrà allargita tanto colui che sarà impuro come colui che sarà impuro ne potranno mangiare come si fa della carne di gazzella e di cervo ma non ne mangerete il sangue lo spargerai per terra come acqua non potrai mangiare entro le tue porte le decime del tuo frumento del tuo mosto del tuo olio né i primogeniti dei tuoi armenti dei tuoi greggi né di ciò che avrai consacrato per voto nelle tue offerte volontarie né quel che le tue mani avranno prelevato tali cose mangerai dinnanzi all'Eterno che è il tuo Dio nel luogo che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto tu il tuo figliolo la tua figliola il tuo servo la tua serva e il Levita che sarà entro le tue porte e ti rallegrerai dinnanzi all'Eterno che è il tuo Dio d'ogni cosa a cui avrai messo mano guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese da abbandonare il Levita quando l'Eterno il tuo Dio avrà ampliato i tuoi confini come ti ha promesso e tu desiderando di mangiare la carne dirai vorrei mangiare della carne potrai mangiare della carne a tuo piacimento se il luogo che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto per porvi il suo nome sarà lontano da te potrai ammazzare del grosso e del minuto bestiame che l'Eterno ti avrà dato come ti ho prescritto e potrai mangiarne entro le tue porte a tuo piacimento soltanto ne mangerai come si mangia la carne di gazzella e di cervo ne potrai mangiare tanto chi sarà impuro quanto chi sarà puro ma guardati assolutamente dal mangiarne il sangue perché il sangue è la vita e tu non mangerai la vita assieme con la carne non lo mangerai non lo spargerai per terra come acqua non lo mangerai finché sii felice tu e i tuoi figlioli dopo di te quando avrai fatto ciò che è retto agli occhi dell'Eterno ma quanto alle cose che avrai consacrate o promesse per voto le prenderai ed andrai al luogo che l'Eterno avrà scelto e offrirai i tuoi olocausti la carne e il sangue sull'altare dell'Eterno che è il tuo Dio e il sangue delle tue altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare dell'Eterno del tuo Dio e tu ne mangerai la carne osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando affinché sii sempre felice tu e i tuoi figlioli dopo di te quando avrai fatto ciò che è bene retto agli occhi dell'Eterno che è il tuo Dio quando l'Eterno l'idio tuo avrà sterminato davanti a te le nazioni la dove tu stai per entrare a spodestarle e quando le avrai spodestate e ti sarai stanziato nel loro paese guardati bene dal cadere nel laccio seguendo il loro esempio dopo che saranno state distrutte davanti a te e dall'informarti dei loro dèi dicendo queste nazioni come servivano esse ai loro dèi anch'io voglio fare lo stesso non così farai in riguardo all'Eterno all'idio tuo poiché esse praticavano verso il loro dèi tutto ciò che è abominevole per l'Eterno e che egli detesta davano perfino alle fiamme i loro figlioli e le loro figliole in onore dei loro dèi avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi ho comando non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai Deuteronomio capitolo tredicesimo quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succeda ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto ed essi serviamo tu non darai retta alle parole di quel profeta di quel sognatore perché l'Eterno il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra seguirete l'Eterno il Dio vostro temerete Lui osserverete i Suoi comandamenti ubbidirete alla Sua voce e a Lui servirete e vi terete stretti e quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia dall'Eterno dal vostro Dio che vi ha tratti dal paese d'Egitto e via redenti dalla casa di schiavitù per spingerti fuori dalla via per la quale l'Eterno il tuo Dio ti ha ordinato di camminare così toglierai il male di mezzo a te se il tuo fratello figliolo di tua madre o il tuo figliolo o la tua figliola o la moglie che riposa sul tuo seno o l'amico che ti è come un altro te stesso ti inciterà in segreto dicendo andiamo serviamo ad altri dei dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti dei dei popoli che vi circondano vicino a te o da te lontani da un'estremità all'altra della terra tu non la consentire non gli dar retta l'occhio tuo non abbia fietà per lui non lo risparmiare non lo ricettare anzi uccidelo senz'altro la tua mano sia la prima a levarsi su di lui per metterlo a morte poi venga la mano di tutto il popolo lapidalo e muoia perché ha cercato di spingerti lungi dall'Eterno dall'idio tuo che ti trasse dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù e tutto Israele ludrà e temerà e non commetterà più nel mezzo di te una simile azione malvagia se sentirai dire di una delle tue città che l'Eterno il tuo Dio ti dà per abitare degli uomini perversi sono usciti di mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo andiamo serviamo ad altri dèi che voi non avete mai conosciuti tu farai delle ricerche investigherai interrogerai con cura e se troverai che sia vero che il fatto sussiste e che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te allora metterai senz'altro a fil di spada gli abitanti di quella città la voterai allo sterminio con tutto ciò che contiene e passerai a fil di spada anche il suo bestiame e radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e darai interamente alle fiamme la città con tutto il suo bottino come sacrificio arso interamente all'eterno che è il vostro dio essa sarà in perpetuo mucchio di rovine e non sarà mai più ridificata e nulla di ciò che sarà così votato allo sterminio s'attaccherà alle tue mani affinché l'eterno si distolga dall'ardore della sua ira ti faccia misericordia abbia pietà di te e ti moltiplichi come giuro di fare ai tuoi padri quando tu obbedisca alla voce dell'eterno del tuo dio osservando tutti i suoi comandamenti che oggi ti do e facendo ciò che è retto agli occhi dell'eterno che è il tuo dio Deuteronomio capitolo quattordicesimo voi siete i figliuoli dell'eterno che è l'idio vostro non vi fate incisioni addosso e non vi radete i peri tra gli occhi per lutto d'un morto perché tu sei un popolo consacrato all'eterno all'idio tuo e l'eterno ti ha scelto perché tu gli fossi un popolo specialmente suo fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra non mangerai cosa alcuna abominevole questi sono gli animali dei quali potrete mangiarne il bue la pecora e la capra il cervo la gazzella il daino lo stambecco l'antilope il capriolo e il camoscio potrete mangiare d'ogni animale che ha l'unghia spartita e il pie è forcuto e che rumina ma non mangerete di quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto l'unghia spartita o il pie forcuto e sono il cammello la lepre il coniglio che ruminano ma non hanno l'unghia spartita considerateli come impuri anche il porco che ha l'unghia spartita ma non rumina lo considerete come impuro non mangerete della loro carne e non toccherete i loro corpi fra tutti gli animali che vivono nelle acque potete mangiare di tutti quelli che hanno le pinne e le squaglie ma non mangerete di alcuno di quelli che non hanno pinne o squaglie considerateli come impuri potrete mangiare di qualunque uccello puro ma ecco quelli dei quali non dovete mangiare l'aquila l'ossifraga l'aquila di mare il nibbio il falco ed ogni specie d'avvoltoio ogni specie di corvo lo struzzo il barbagianni il gabbiano e ogni specie di sparviere il gufo l'ibi il cigno il pellicano il tuffolo lo smergo la cicogna ogni specie di arigione l'upupa e il pipistrello e considererete come impuro ogni insetto alato non se ne mangerà potrete mangiare di ogni volatile puro non mangerete di alcuna bestia morta da sé la darai allo straniero che sarà entro le tue porte perché la mangi o la venda a qualche straniero poiché tu sei un popolo consacrato all'eterno che è il tuo dio non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre avrete cura di prelevare la decima la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza da quello che ti frutterà il campo ogni anno mangerai nel cospetto dell'eterno del tuo dio nel luogo che egli avrà scelto per dimora il suo nome la decima del tuo frumento del tuo mosto del tuo olio e i primi parti dei tuoi eramenti e dei tuoi greggi affinché tu impari a temer sempre l'eterno l'idio tuo ma se il cammino è troppo lungo per te sì che tu non possa portar colà quelle decime essendo il luogo che l'eterno il tuo dio ti avrà scelto per stabilirvi il suo nome troppo lontano da te perché l'eterno il tuo dio ti avrà benedetto allora le convertirai in denaro terrai stretto in mano questo denaro andrai al luogo che l'eterno il tuo dio avrà scelto e impiegherai quel denaro e a comprarti tutto quello che il cuore tuo desiderà buoi pecore vino bevande alcoliche o qualunque cosa possa piacerti e qui vi mangerai nel cospetto dell'eterno del tuo dio e ti rallegrerai tu con la tua famiglia e il levita che abita entro le tue porte non lo abbandonerai poiché non ha parte né eredità con te alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate nel terzo anno e le riporrai entro le tue porte e le vita che non ha parte in eredità con te e lo straniero e l'orfano e la vedova che saranno entro le tue porte verranno mangeranno e si sazieranno affinché l'eterno il tuo dio ti benedica in ogni opera a cui porrai mano deuteronomio capitolo quindicesimo alla fine d'ogni settennio celebrerete l'anno di remissione ed ecco il modo di questa remissione ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo non esigerà il pagamento dal suo prossimo né dal suo fratello quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore dell'eterno potrà esiscerlo dallo straniero ma quanto a ciò che il tuo fratello avrà del tuo sospendene il tuo diritto non di meno non vi sarà alcun bisogno tra voi perché l'eterno senza dubbio ti benedirà nel paese dell'eterno che l'eterno il tuo dio ti dà in eredità perché tu lo possegga purché però tu obbedisca diligentemente alla voce dell'eterno che è il tuo dio avendo cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do il tuo dio l'eterno ti benedirà come ti ha promesso e tu farai dei prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito dominerai su molte nazioni ed esse non domineranno su te quando vi sarà in mezzo a te qualcuno dei tuoi fratelli che sia bisognoso in una delle tue città nel paese che l'eterno l'idio tuo ti dà non indurerai il cuore tuo e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale si trova guardati dall'accogliere in cuore tuo un cattivo pensiero che ti faccia dire il settimo anno l'anno di remissione è ormai vicino e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso così da non dargli nulla perché egli griderebbe contro di te all'eterno e ci sarebbe del peccato in te dagli liberamente e quando gli darai non te ne dolga il cuore poiché a motivo di questo l'eterno l'idio tuo ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese perciò io ti do questo comandamento e ti dico apri liberamente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese se un tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te ti servirà sei anni ma il settimo lo manderai via da te libero e quando lo manderei via da te libero non lo rimanderai a vuoto lo fornirai liberamente di doni tratti dal tuo grege dalla tua aia dal tuo strettoio gli farai parte delle benedizioni che l'eterno il tuo dio ti avrà allargite e ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'eterno il tuo dio ti ha redento perciò io ti do oggi questo comandamento ma se avvenga che egli ti dica non voglio andarmene da te perché ama te e la tua casa e sta bene con te allora prenderai una lesina gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli ti sarà schiavo per sempre lo stesso farai per la tua schiava non ti sia grave rimandarlo dato il libero poiché ti ha servito sei anni e un mercenario ti sarebbe costato il doppio e l'eterno il tuo dio ti benedirà in tutto ciò che farai consacrerai all'eterno il tuo dio ogni primogenito maschio che ti nascerà nei tuoi armenti e nei tuoi greggi non metterai al lavoro il primogenito della tua vacca e non toserai il primogenito della tua pecora li mangerai ogni anno con la tua famiglia in presenza dell'eterno dell'idio tuo nel luogo che l'eterno avrà scelto e se l'animale ha qualche difetto se è zoppo o cieco o ha qualche altro grave difetto non lo sacrificerai all'eterno alto dio lo mangerai entro le tue porte colui che sarà impuro e colui che sarà puro ne mangeranno senza distinzione come si mangia della gazzella e del cervo però non ne mangerai il sangue lo spargerai per terra come acqua Deuteronomio capitolo sedicesimo osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore dell'eterno del tuo Dio poiché nel mese di Abib l'eterno il tuo Dio ti trasse dall'Egitto durante la notte e immolerai la Pasqua all'eterno all'idio tuo con vittime dei tuoi greggi e dei tuoi armenti nel luogo che l'eterno avrà scelto per dimora del suo nome non mangerai con queste offerte il pane levitato per sette giorni mangerai con esse pane azimo pane d'afflizione poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto affinché tutti i ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto tutto il tempo della tua vita non si vega lievito presso di te entro tutti i tuoi confini per sette giorni e della carne che avrai immolata la sera del primo giorno nulla se ne servi durante la notte fino al mattino non potrai immolare la Pasqua in una qualunque delle città dell'eterno il tuo Dio ti darà anzi immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che l'eterno il tuo Dio avrà scelto per dimora del suo nome la immolerai la sera al tramontare del sole nell'ora in cui uscisti dall'Egitto fare cuocere la vittima e la mangerai nel luogo che l'eterno il tuo Dio avrà scelto e la mattina te ne potrai tornare e andartene alle tue tende per sei giorni mangerai pane senza lievito e il settimo giorno ti sarà una solenne radunanza in onore dell'eterno che è l'idio tuo e non farai lavoro di sorta conterai sette settimane da quando si metterà la falce alla messe come comincerai a contare sette settimane poi celebrerai la festa delle settimane in onore dell'eterno del tuo Dio mediante offerte volontarie che presenterai nella misura delle benedizioni che avrai ricevute dall'eterno che è il tuo Dio e ti rallegrerai in presenza dell'eterno del tuo Dio tu il tuo figliuolo la tua figliuola il tuo servo la tua serva e l'evita che sarà entro le tue porte e lo straniero l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te nel luogo che l'eterno il tuo Dio avrà scelto per dimora del suo nome ti ricorderai che fosti schiavo in Egitto e osserverai e metterai in pratica queste leggi celebrerai la festa delle capanne per sette giorni quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo strettoio e ti rallegrerai in questa tua festa tu il tuo figliuolo e la tua figliuola il tuo servo e la tua serva e il levita lo straniero l'orfano e la vedova che saranno entro le tue porte celebrerai la festa per sette giorni in onore dell'eterno del tuo Dio nel luogo che l'eterno avrà scelto poiché l'eterno il tuo Dio ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani e tu ti darai interamente alla gioia tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti all'eterno al tuo Dio nel luogo che questi avrà scelto nella festa dei panni azimi nella festa delle settimane e nella festa delle capanne e nessuno si presenterà davanti all'eterno a mani vuote ognuno darà ciò che potrà secondo le benedizioni che l'eterno lì Dio tuo avrà date stabilisciti dei giudici e dei magistrati in tutte le città che l'eterno il tuo Dio ti dà tribù per tribù ed essi giudicheranno il popolo con giusti giudizi non pervertirai il diritto e non avrai riguardi personali e non accetterai donativi poiché il donativo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti la giustizia solo la giustizia seguirai affinché tu viva e possegga il paese che l'eterno il tuo Dio ti dà non pianterai alcun idolo d'astarte in di qualsivoglia specie di legno allato all'altare che edificherai all'eterno che è il tuo Dio e non erigerai alcuna statua cosa che l'eterno il tuo Dio odia Deuteronomio capitolo dice settesimo non immolerai l'eterno al tuo Dio bue o pecora che abbia qualche difetto qualche deformità poiché sarebbe cosa abominevole per l'eterno che è il tuo Dio se si troverà nel tuo mezzo in una delle città dell'eterno il tuo Dio ti dà un uomo o una donna che faccia ciò che è male agli occhi dell'eterno del tuo Dio trasgredendo il suo patto e che vada serva ad altri dèi e si prostri dinanzi a loro dinanzi al sole o alla luna e a tutto l'esercito celeste cosa che io non ho comandata quando ciò ti sarà riferito e tu abbia saputo informartene diligentemente e se è vero e se il fatto sussiste se una tale abominazione è stata realmente commessa in Israele farai condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio e lapiderai quell'uomo o quella donna assicché muoia colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni non sarà messo a morte sulla deposizione di un solo testimonio la mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire poi la mano di tutto il popolo così torrai il male di mezzo a te quando il giudizio di una causa sarà troppo difficile per te sia che si tratti di un omicidio o di una contestazione di un inferimento o di materie da processo o entro le tue porte ti leverai e salirai al luogo che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto andrai dai sacerdoti levitici e dal giudice in carica di quel tempo li consulterai ed essi ti faranno conoscere ciò che dice il diritto e tu ti conformerai a quello che essi ti dichiareranno nel luogo che l'Eterno avrà scelto e avrai cura di fare tutto quello che t'avranno insegnato ti conformerai alla legge che essi t'avranno insegnata e al diritto come te l'avranno dichiarato non ti evierai da quello che ti avranno insegnato né a destra né a sinistra e l'uomo che avrà la presunzione di non dare ascolto al sacerdote che sta là per servire l'Eterno il tuo Dio o al giudice quell'uomo morrà così torrai via il male da Israele e tutto il popolo udrà la cosa e temerà e non agirà più con presunzione e quando sarai entrato nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà e ne avrai preso possesso e l'abiterai se dici voglio costituire su di me un re come tutte le nazioni che mi circondano dovrai costituire su di te come re colui che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto costituirai su di te come re uno dei tuoi fratelli non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello però non abbia egli gran numero di cavalli e non riconduca il popolo in Egitto per procurarsi gran numero di cavalli poiché l'Eterno vi ha detto non rifarete mai più quella via e neppure abbia gran numero di mogli affinché il suo cuore non si svii e neppure abbia gran quantità d'argento d'oro e quando si insiederà sul suo trono reale scriverà per suo uso un libro una copia di queste leggi secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici e terrà il libro presso di sé e vi leggerà dentro tutti i giorni della sua vita per imparare a temere l'Eterno il suo Dio a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni affinché il cuor suo non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devida questi comandamenti né a destra né a sinistra e prolunghi così i suoi giorni nel suo regno egli coi suoi figlioli in mezzo ad Israele Deuteronomio capitolo diciottesimo i sacerdoti levitici tutta quanta alla tribù di Levi non avranno parte né eredità con Israele vivranno dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'eterno e dell'eredità di lui non avranno dico alcuna eredità tra i loro fratelli l'eterno è la loro eredità come egli ha detto loro or questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo su quelli che offriranno come sacrificio sia un bue sia una pecora essi daranno al sacerdote la spalla le mascelle e il ventricolo gli darai le primizie del tuo frumento del tuo mostro e del tuo olio e le primizie della tosatura delle tue pecore poiché l'eterno il tuo dio l'ha scelto fra tutte le tue tribù perché si presentino a fare il servizio nel nome dell'eterno egli e i suoi figlioli in perpetuo e quando un levita partendo da una qualunque delle città dove soggiorna in israele verrà seguendo il pieno desiderio del suo cuore al luogo che l'eterno avrà scelto e farà il servizio nel nome dell'eterno del tuo dio come tutti i suoi fratelli leviti che stanno quivi davanti all'eterno egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri oltre quello che gli può venire dalla vendita del suo patrimonio quando sarà entrato nel paese che l'eterno lì dio tuo ti dà non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco né chi eserciti la divinazione né pronosticatore né augure né mago né incantatore né chi consulti gli spiriti né chi dica la buona fortuna né negromante poiché chiunque fa queste cose è un abominio all'eterno e a motivo di queste abominazioni l'eterno il tuo dio sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te tu sarai ingrato verso l'eterno l'idio tuo poiché quelle nazioni del cui paese tu vai ad impossessarti danno ascolto ai pronosticatori e agli indovini ma quanto a te l'eterno il tuo dio ha disposto altrimenti l'eterno il tuo dio ti susciterà un profeta come me in mezzo a te din fra i tuoi fratelli a quello darete ascolto avrai così per l'appunto quello che chiedesti all'eterno al tuo dio in ore il giorno della radunanza quando dicesti che io non ho da più la voce dell'eterno dell'idio mio e non vegga più questo gran fuoco un dio non muoia e l'eterno mi disse quello che ti han detto sta bene io susciterò loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca e l'egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò e avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole che egli dirà in mio nome io gliene domanderò conto ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli abbia comandato di dire o che parlerà in nome degli altri dei quel profeta sarà punito di morte e se tu dici in cuor tuo come riconosceremo la parola che l'eterno non ha data quando il profeta parlerà in nome dell'eterno e la cosa non succede non si avvera quella sarà una parola che l'eterno non ha detta il profeta l'ha detta per presunzione tu non lo temere Deuteronomio capitolo diciannovesimo quando l'eterno il tuo dio avrà sterminato le nazioni delle quali l'eterno il tuo dio ti dà il paese e tu succederai a loro ed abiterai nelle loro città e nelle loro case ti metterai da parte tre città in mezzo al paese del quale l'eterno il tuo dio ti dà il possesso preparerai delle strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che l'eterno il tuo dio ti dà come eredità affinché qualsivoglia omicidia si possa rifugiare in quelle città ed ecco in qual caso l'omicidia che vi si rifugierà avrà salva la vita chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente senza che l'abbia odiato prima come se uno ad esempio va al bosco col suo compagno a tagliare la legna e mentre la mano avventa la scura per abbattere l'albero il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno sì che gli muoia quel tale si rifugierà in una di queste città ed avrà salva la vita altrimenti il vindice del sangue mentre l'ira gli arde in cuore potrebbe inseguire l'omicida e quando sia lungo il cammino da fare raggiungerlo e colpirlo a morte mentre non era degno di morte in quanto che non aveva prima odiato il compagno perciò ti do quest'ordine mettiti da parte tre città e se l'Eterno il tuo Dio allarga i tuoi confini come giurò il tuo padre di fare e ti dà tutto il paese che promise di dare ai tuoi padri qualora tu abbia cura ad osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do amando l'Eterno il tuo Dio e camminando sempre nelle sue vie aggiungerai tre altre città a quelle prime tre affinché non si sparga sangue innocente in mezzo al paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà in credità e tu non ti renda colpevole di omicidio ma se un uomo odia il suo prossimo gli tende insidie la sale lo percuote in modo da cagionargli la morte e poi si rifugia in una di quelle città gli anziani della sua città lo manderanno a trarre di là e lo daranno nelle mani del vindice del sangue affinché sia messo a morte l'occhio tuo non ne avrà pietà torrà via da Israele il sangue innocente e così sarai felice non sposterai i termini del tuo prossimo posti dai tuoi antenati nell'eredità che avrai nel paese di cui l'Eterno il tuo Dio ti dà il possesso un solo testimone non sarà sufficiente contro ad alcuno qualunque sia il delitto o il peccato che questi abbia commesso il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o di tre testimoni quando un testimonio iniquio si leverà contro qualcuno per accusarlo d'un delitto i due uomini fra i quali al luogo la contestazione compariranno davanti all'Eterno davanti ai sacerdoti ai giudici in carica in quei giorni i giudici faranno una diligente inchiesta e se quel testimonio risulta un testimonio falso che ha deposto il falso contro il suo fratello farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo fratello così torrai via il male di mezzo a te gli altri ludranno temeranno e da allora in poi non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità l'occhio tuo non avrà pietà vita per vita occhio per occhio dente per dente mano per mano piede per piede Deuteronomio capitolo ventesimo quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente e maggior numero di te non li temere perché l'Eterno il tuo Dio che ti fece salire dal paese d'Egitto è Teco e quando sarete al punto di dar battaglia il sacerdote si farà avanti e parlerà al popolo e gli dirà Ascolta Israele voi state oggi per impegnare battaglia coi vostri nemici il vostro cuore non venga meno non temete non vi smarrite non vi spaventate dinanzi a loro perché l'Eterno il vostro Dio è con Lui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici per salvarvi poi gli ufficiali parleranno al popolo dicendo c'è qualcuno che abbia edificato una casa nuova e non abbia ancora inaugurata vada torni a casa sua onde non abbia morire in battaglia e un altro inauguri la casa c'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia ancora goduto il frutto vada torni a casa sua onde non abbia morire in battaglia e un altro ne goda il frutto c'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia ancora presa vada torni a casa sua onde non abbia morire in battaglia e un altro se la prenda Gli ufficiali parleranno al popolo dicendo C'è qualcuno che abbia paura e senta venire di meno il cuore Vada e torna a casa sua Onde il cuore dei suoi fratelli non abbia da avvilirsi come il suo E come gli ufficiali avranno finito di parlare al popolo Costituiranno i capi delle schiere della testa del popolo Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla Le offrirai prima la pace E se acconsente alla pace e t'apre le sue porte Tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario il soggetto Ma se essa non vuol far pace teco e ti vuol far guerra Allora la siederai Quando l'Eterno il tuo Dio te l'avrà data nelle mani Ne metterai a fil di spada tutti i maschi Ma le donne, i bambini, il bestiamo e tutto ciò che sarà nella città Tutto quanto il suo bottino Te li porterai come tua preda E mangerai il bottino dei tuoi nemici che l'Eterno il Dio tuo ti avrà dato Così farai per tutte le città che sono molto lontane da te E che non sono città di queste nazioni Ma nelle città di questi popoli che l'Eterno il tuo Dio ti dà come eredità Non conservirai in vita nulla che respiri Ma voterai a completo sterminio gli Tei, gli Amorei, i Cananei, i Ferresei, i Vei, i Gebusei Come l'Eterno il tuo Dio ti ha comandato di fare Affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le abominazioni che fanno per i loro Dei E voi non pecchiate contro l'Eterno che è il vostro Dio Quando cingerai da sé di una città per lungo tempo Attaccandola per prenderla Non te ne distruggerai gli alberi a colpi di scure Ne mangerai il frutto Ma non li abbatterai perché l'albero della campagna è forse un uomo Che tu abbia ad includere nell'assedio Potrai però distruggere e abbattere gli alberi Che saprai non essere alberi da frutto E ne costruirai delle opere d'assedio contro la città che fa guerra a Teco Finché essa accada Deuteronomio capitolo ventunesimo Quando nella terra di cui l'Eterno il tuo Dio ti dà il possesso Si troverà un uomo ucciso disteso in campo senza che sappiasi chi l'abbia ucciso I tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e la città degli intorni Poi gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il gioco E gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un torrente perenne In luogo dove non si lavora e non si semina e qui vi troncheranno il collo della giovenca nel torrente E i sacerdoti figlioli di Levi si avvicineranno poiché l'Eterno il tuo Dio li ha scelti per servirli Per dare la benedizione nel nome dell'Eterno e la loro parola ha da decidere ogni controversia e ogni caso di lesione Allora tutti gli anziani di quella città che sono più vicini all'ucciso Si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà troncato il collo nel torrente E prendendo la parola diranno Le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non l'hanno visto spargere O Eterno perdona il tuo popolo Israele che tu hai riscattato E non fa responsabile il tuo popolo d'Israele del sangue innocente E quel sangue sparso sarà loro perdonato Così tu torrai via di mezzo a te il sangue innocente perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e l'Eterno il tuo Dio te li avrà dati nelle mani E tu avrai fatto dei prigionieri Se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto E le porrai l'affezione e vorrai prendertela per moglie La menerai in casa tua Ella si raderà il capo, si taglierà le unghie Si leverà il vestito che portavo quando fu presa Dimorerà in casa tua e piangerà il suo padre e sua madre per un mese intero Poi entrerà da lei e tu sarai il suo marito della tua moglie E se avvenga che non ti piaccia più La lascerai andare dove vorrà Ma non la potrai in alcun modo vendere né per denaro né trattare da schiava giacché l'hai umiliata Quando un uomo avrà due mogli L'una amata e l'altra odiata E tanto l'amata quanto l'odiata gli avrà dato dei figlioli Se il primogenito è il figliolo dell'odiata Nel giorno che il dividerà tra i suoi figlioli i beni che possiede Non potrà far primogenito il figliolo dell'amata Anteponendolo al figliolo dell'odiata Che è il primogenito Ma riconoscerà come primogenito il figliolo dell'odiata Dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede Poiché egli è la primizia del suo vigore E a lui appartiene il diritto di primogenitura Quando un uomo avrà un figliolo caparbio e ribelle Che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre E perché l'abbian castigato Non dà loro retta Suo padre e sua madre lo prenderanno E lo meneranno dagli anziani della città Alla porta del luogo dove abita E diranno agli anziani della città Questo nostro figliolo è caparbio e ribelle Non vuole ubbidire la nostra voce È un ghiotto, un ubriacone E tutti gli uomini della sua città Lo lapideranno sì che muoia Così toglieranno via di mezzo a te il male E tutto Israele lo saprà e temerà E quando uno avrà commesso un delitto degno di morte E tu l'avrai fatto morire e appiccato a un albero Il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero Ma lo soppererai senza farlo lo stesso giorno Perché l'impiccato è maledetto da Dio E tu non contaminerai la terra che l'Eterno il tuo Dio ti dà come eredità Deuteronomio capitolo ventiduesimo Se vedi smarriti il bue o la pecora del tuo fratello Tu non farai vista di non averli scorti Ma avrai cura di ricondurli al tuo fratello E se il tuo fratello non abita vicino a te e non lo conosci Raccoglierai l'animale in casa tua e rimarrà da te finché il tuo fratello non ne faccia ricerca Allora glielo renderai Lo stesso farai del suo asino Lo stesso della sua veste Lo stesso di qualunque altro oggetto che il tuo fratello abbia perduto e che tu trovi Tu non farai vista di non averli scorti Se vedi l'asino del tuo fratello O il suo bue caduto nella strada Tu non farai vista di non averli scorti Ma dovrai aiutare il tuo fratello a rizzarlo La donna non si vestirà da uomo Nell'uomo si vestirà da donna Poiché chiunque fa tali cose è in abominio all'Eterno il tuo Dio Quando cammin facendo T'arverrà di trovare sopra un albero per terra un nido d'uccello con dei pulcini o delle uova E la madre che cova il pulcino e le uova Non prenderai la madre coi pulcini Avrai cura di lasciare andare la madre prendendo per te i piccini E questa affinché tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni Quando edificherai una casa nuova Farai un parapetto intorno al tuo tetto Per non mettere sangue sulla tua casa Nel caso che qualcuno avesse a cascare di lassù Non seminerai nella tua vigna semi di specie diverse Perché altrimenti il prodotto di ciò che avrai seminato E la rendita della vigna sarà cosa consacrata Non lavorerai con il bue e un asino aggiogati assieme Non porterai vestito di tessuto misto fatto di lana e di lino Metterai delle frange ai quattro canti del mantello con cui ti copri Se un uomo sposa una donna Coabita con lei E poi la prende in odio L'accusa di cose turpi e la diffama Dicendo Ho preso questa donna E quando mi sono accostata a lei Non l'ho trovata vergine Il padre e la madre della giovane Prenderanno i segni della virginità della giovane E li produrranno dinanzi agli anziani della città alla porta E il padre della giovane dirà agli anziani Io ho dato mia figliola per moglie a quest'uomo Egli l'ha presa in odio Ed ecco che l'accusa di cose infami Dicendo Non l'ho trovata vergine la tua figliola Ora ecco qua i segni della virginità della mia figliola E spiegheranno il lenzuolo davanti agli anziani della città Allora gli anziani di quella città Prenderanno il marito e lo castigheranno E siccome ha diffamato una vergine di Israele Lo condanneranno a un'ammenda Di cento sicli d'argento Che daranno al padre della giovane Ella rimarrà sua moglie Ed egli non potrà mandarla via Per tutto il tempo della sua vita Ma se la cosa è vera Se la giovane non è stata trovata vergine Allora si farà uscire quella giovane Dall'ingresso della casa di suo padre E la gente della città la lapiderà Sicché la muoia Perché ha commesso un atto infame in Israele Prostituendosi in casa di suo padre Così torrà via il male di mezzo a te Quando si troverà un uomo A giascere con una donna maritata Ambe due morranno L'uomo che si è giasciuto con la donna E la donna Così torrà via il male di mezzo ad Israele Quando una fanciulla vergine è fidanzata E un uomo trovandola in città Si giace con lei Condurrete ambe due alla porta di quella città E li lapiderete Sicché muoiano La fanciulla Perché essendo in città non ha gridato E l'uomo perché ha disonorato la donna Del suo prossimo Così torrà via il male di mezzo a te Ma se l'uomo Trova per i campi la fanciulla fidanzata E facendo le violenze si giace con lei Allora morrà soltanto l'uomo che si è giasciuto con lei Ma non farà niente alla fanciulla Nella fanciulla non c'è colpa degna di morte Si tratta di un caso Come quello di un uomo che si levi contro il suo prossimo e l'uccida Poiché egli l'ha trovata per i campi La fanciulla fidanzata ha gridato Ma non c'era nessuno per salvarla Se un uomo trova una fanciulla vergine Che non si è fidanzata e l'afferra E si giace con lei E sono sorpresi L'uomo che si è giasciuto con lei Darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d'argento Ed ella sarà sua moglie Perché l'ha disonorata E non potrà mandarla via Per tutto il tempo della sua vita Nessuno prenderà la moglie di suo padre Né solleverà il lembo della coperta di suo padre Deuteronomio capitolo ventitresimo L'enuco a cui sono state infrante o mutilate le parti Non entrerà nella radunanza dell'Eterno Il bastardo non entrerà nella radunanza dell'Eterno Nessuno dei suoi Neppure alla decima generazione Entrerà nella radunanza dell'Eterno La monita e il moabita Non entreranno nella radunanza dell'Eterno Nessuno dei loro discendenti Neppure alla decima generazione Entrerà nella radunanza dell'Eterno Non ventreranno mai Perché non vi vennero incontro col pane e con l'acqua Nel vostro viaggio Quando usciste dall'Egitto E perché salariarono a tuo danno Balam figliolo di Beor Da Petor in Mesopotamia per maledirti Ma l'Eterno il tuo Dio non vuole ascoltare Balam Ma l'Eterno il tuo Dio mutò per te la maledizione in benedizione Perché l'Eterno il tuo Dio ti ama Non cercherai né la loro pace Né la loro prosperità Finché tu viva in perpetuo Non aborrai l'Idumeo Perché egli è tuo fratello Non aborrai l'Egiziano Perché fosti straniero nel tuo paese E figlioli che nasceranno loro Potranno alla terza generazione Entrare nella radunanza dell'Eterno Quando uscirai E ti accamperai contro i tuoi nemici Guardati da ogni cosa malvagia Se v'è qualcuno in mezzo a te Che sia impuro a motivo D'un accidente notturno Uscirà dal campo e non vi rientrerà Sulla sera si laverà con acqua E dopo il tramonto del sole Potrai entrare nel campo Avrai pure un luogo fuori del campo E là fuori andrai per i tuoi bisogni E fra i tuoi utensili avrai una pala Con la quale quando avrai Andar fuori per i tuoi bisogni Scaverai la terra E coprirai i tuoi escrementi Poiché l'Eterno il tuo Dio Cammina in mezzo al tuo campo Per liberarti e per darti nelle mani Dei tuoi nemici E perciò il tuo campo dovrà essere santo Affinché l'Eterno non abbia a vedere In mezzo a te alcuna bruttura E ritirarsi da te Non consegnerai al tuo padrone Lo schiavo che dopo aver lasciato Si sarà rifugiato presso di te Rimara da te nel tuo paese Nel luogo che avrà scelto In quella delle tue città Che gli parrà meglio E non lo molesterai Non vi sarà alcuna meretrice Tra i figlioli di Israele Né vi sarà alcun uomo Che si prostituisca Tra i figlioli di Israele Non porterai nella cassa Dell'Eterno del tuo Dio La mercede di una meretrice Nel prezzo della venduta Ad un cane Per sciogliere qualsiasi voto Poiché ambe due sono cose Abominevoli per l'Eterno Che è il tuo Dio Non farai al tuo fratello Prestiti ad interesse Né di denaro Né di vivere Né di qualsivoglia cosa Che vi si presta interesse Allo straniero Potrai prestare interesse Ma non al tuo fratello Affinché l'Eterno Il tuo Dio Ti benedica In tutto ciò A cui porrai mano Nel paese Dove stai per entrare Per prenderne possesso Quando avrai fatto Un voto all'Eterno Al tuo Dio Non tarderai D'empirlo Perché l'Eterno Il tuo Dio Te ne domanderebbe Certamente conto E tu Saresti colpevole Ma Se ti astieni Dal far voti Non commetti peccato Mantieni E compi La parola uscita Dalle tue labbra Fa Secondo il voto Che avrai fatto Volontariamente All'Eterno Al tuo Dio E che la tua bocca Avrà pronunziato Quando entrerai Nella vigna Del tuo prossimo Potrai A tuo piacere Mangiare Dell'uva A sazietà Ma non ne metterai Nel tuo paniere Quando entrerai Nelle biade Del tuo prossimo Potrai Cogliere Delle spighe Con la mano Ma non Metterai La facce Nelle biade Del tuo prossimo Deuteronomio Capitolo Ventiquattresimo Quando uno Avrà preso Una donna E sarà Divenuto Suo marito Se avvenga Che la poi Non gli sia Più gradita Perché ha trovato In lei Qualcosa Di vergognoso E scriva per lei Un libello Di ripudio E glielo consegni In mano E la mandi Via Di casa sua Se la Uscita di casa Di colui Va e diviene Moglie Di un altro marito E quest'altro marito La prende in odio Scrive per lei Un libello Di ripudio Glielo consegna In mano E la manda via Di casa sua O se quest'altro marito Che l'aveva presa Per moglie Viene a morire E il primo marito Che l'aveva mandata via Non potrà riprenderla Per moglie Dopo che l'è stata Contaminata Perché sarebbe Un'abominazione Agli occhi Dell'Eterno E tu Non macchierai Di peccato Il paese Che l'Eterno Il tuo Dio Ti dà Come eredità Quando un uomo Si sarà sposato Di fresco Non andrà Alla guerra E non gli sarà Imposto Alcun incarico Sarà libero Per un anno Di starsene A casa E farà lieta La moglie Che ha sposata Nessuno Diligentemente Ti porterà Gli stranieri Non conculcherai Il diritto Per lo straniero Dell'orfano E non prenderai La vedova E ti ricorderai E ti ricorderai Che sei stato Schiavo Nel paese Ed Egitto Perciò Ti comando Che tu faccia Così Deuteronomio Capitolo Venticinquesimo Quando Il suo fratello Il suo fratello Verrà da lei Verrà da lei E se la prenderà Per moglie E se a quell'uomo Non piace Di prendere La sua cognata La cognata Salirà Alla porta Degli anziani Dirà Il mio cognato Rifiuta Di far rivivere In Israele Il nome Del suo fratello E non vuol Compiere Verso di me Il suo dovere Di cognato Allora Gli anziani Della sua città Lo chiameranno E gli parleranno E se Edi persiste Dice Non mi piaci Di prenderla Allora La sua cognata Gli si avvicinerà In presenza Degli anziani Gli leverà Il calzale Dal piede E disputerà In faccia E dirà Così Sarà fatta L'uomo Che non vuol Edificare La casa Di suo fratello Nella casa Di lui Sarà chiamata In Israele La casa Dello scalzato Quando alcuni Verranno Accontesa Fra loro E la moglie Dell'uno Si accosterà Per liberare Suo marito Dalle mani Di colui Che lo percuote E stendendo La mano Lo afferrerà Quest'ultimo Per le sue Vergogne Tu le mozzerai La mano L'occhio Tuo non ne abbia Pietà Non avrai Nella tua Sacchetta Due pesi Uno grande E uno piccolo Non avrai In casa Due misure Una grande E una piccola Terra Terrai pesi Esatti E giusti Terrai Misure Esatte E giuste Affinché I tuoi giorni Siano prolungati Sulla terra Che l'Eterno L'Idio Tuo Ti dà Poiché Chiunque fa Altrimenti Chiunque Commette Iniquità È in Abominio All'Eterno Al tuo Dio Ricordati Di ciò Che ti fece Amelec Durante il viaggio Quando usciste Dall'Egitto Come Egli Ti attaccò Per via Piombando Per di dietro Su tutti I deboli Che ti seguivano Quando eri Già stanco E sfinito E come Non ebbe Alcun Timore Di Dio Quando Dunque L'Eterno Il tuo Dio Ti avrà Dato Requie Liberandoti Da tutti I tuoi Enemici All'intorno Nel paese Che l'Eterno Il tuo Dio Ti dà Come Eredità Perché Tu Lo Possegga Cancellerai La memoria Di Amelec Di sotto Il cielo Non Te lo Scordare Deuteronomio Capitolo Ventiseesimo Or quando Sarai entrato Nel paese Che l'Eterno Il tuo Dio Ti dà Come Eredità E lo Possederai E ci sarai Staziato Prenderai Delle primizie Di tutti i frutti Del suolo Da te raccolti Nel paese Che l'Eterno Il tuo Dio Ti dà Le metterai In un paniere E andrai Al luogo Che l'Eterno L'Idio Tuo Avrà scelto Per dimora Del suo nome E ti presenterai Al sacerdote In carica In quei giorni E gli dirai Io dichiaro Oggi All'Eterno All'Idio Tuo Che sono entrato Nel paese Che l'Eterno Giurò Ai nostri Padri Di darci Il sacerdote Prenderai Il paniere Dalle tue mani E lo deporrà Davanti all'altare Dell'Eterno Del tuo Dio E tu Pronunzierai Queste parole Davanti all'Eterno Che è il tuo Dio Mio padre Era un Arameo Errante Scese in Egitto Vistette come Straniero Come poca gente E vi diventò Una nazione Grande Potente E numerosa E gli egiziani Ci maltrattarono E ci umiliarono E ci imposero Un duro selvaggio Allora gridammo All'Eterno All'Idio Dei nostri padri L'Eterno Di la nostra voce Vide la nostra Umiliazione Il nostro travaglio La nostra oppressione E l'Eterno Ci trasse dall'Egitto Con potente mano E con braccio Di stesso E con grandi terrori Con miracoli E con prodigi E ci ha condotti In questo luogo E ci ha dato Questo paese Paese Ove scorre Il latte E il miele Ed ora Ecco Straniero E l'orfano Alla vedova Perché ne mangino Entro le tue porte E siano saziati Dirai Dinanzi all'Eterno Al tuo Dio Io ho tolto Dalla mia casa Ciò che era consacrato E l'ho dato Alle vita Allo straniero All'orfano E alla vedova Interamente Secondo gli ordini Che mi hai dato Non ho trasgradito Né dimenticato Alcuno Dei tuoi comandamenti Non ho mangiato Cose consacrate Durante il mio lutto Non ho tolto Nulla Quando ero impuro E non ho dato Nulla in occasione Di qualche morto Ho obbedito Alla voce Dell'Eterno Dell'Idio mio E ho fatto Interamente Come tu Mai comandato Volge a noi Lo sguardo Dalla dimora Della tua santità Dal cielo E benedisci Il tuo popolo D'Israele La terra Che ci hai dato Come giuraste I nostri padri Terra Ove scorre Il latte E il miele Oggi L'Eterno Il tuo Dio Ti comanda Di mettere In pratica Queste leggi E queste prescrizioni Osservale dunque Mettele in pratica Con tutto il tuo cuore Con tutta L'anima tua Tu Hai fatto Dichiarare Oggi all'Eterno Che egli sarà Il tuo Dio Perché tu cammini Nelle sue vie E osservi Le sue leggi E i suoi comandamenti E le sue prescrizioni E tu obbedisca Alla sua voce E l'Eterno Ti ha fatto oggi Dichiarare Che gli sarai Un popolo Specialmente suo Come egli Ti ha detto E che osserverai Tutti i suoi comandamenti Onde egli Ti renda Eccelso Per gloria Rinomanza E splendore Su tutte le nazioni Che ha fatte E tu sia Un popolo Consacrato All'Eterno Al tuo Dio Come egli Ti ha detto Deuteronomio Capitolo Ventisettesimo Or Mosè E gli anziani D'Israele Dettero quest'ordine Al popolo Osservate Osservate Il Giordano Il Giordano Rizzerete E scriverai E scriverai Su quelle pietre Tutte le parole Di questa legge In modo Che siano Nitidamente Scolpite E Mosè E i sacerdoti Levitici Parlarono A tutto Israele Dicendo Fa silenzio E ascolta O Israele Oggi Sei divenuto Il popolo Dell'Eterno Del tuo Dio Ubbiderai Quindi Alla voce Dell'Eterno Del tuo Dio E metterai In pratica I suoi comandamenti E le sue leggi Che oggi Ti do In quello stesso giorno Mosè Diede pure Quest'ordine Al popolo Quando avrete Passato Il Giordano Ecco Quelli Che Staranno Sul monte Gerisin Per benedire Il popolo Simeone Levi Giuda Isacar Giuseppe Beniamino Ed ecco Quelli Che staranno Sul monte Bar Per pronunziare La maledizione Ruben Gad Asher Zabul Ondan E Neftali I leviti Parleranno E diranno Ad alta voce A tutti Gli uomini D'Israele Maledetto L'uomo Che fa Un'immagine Scolpita O digetto Cosa Abominevole Per l'Eterno Opera Di mano D'artefici E la pone In un luogo Occulto E tutto Il popolo Risponderà E dirà Amen Maledetto Chi sprezza Suo padre Suo madre E tutto Il popolo Dirà Amen Maledetto Chi sposta I termini Del suo prossimo E tutto Il popolo Dirà Amen Maledetto Chi fa Smarrire Al cieco Il suo Cammino E tutto Il popolo Dirà Amen Maledetto Chi conculca Il diritto Dello straniero E dell'orfano E della vedova E tutto Il popolo Dirà Amen Maledetto Chi Uccide Il suo prossimo In occulto E tutto Il popolo Dirà Amen Maledetto Chi accetta Un donativo Per condannare A morte Un innocente E tutto Il popolo Dirà Amen Maledetto Chi non si attiene Alle parole Di questa legge Per metterla In pratica E tutto Il popolo Dirà Amen Deuteronomio Capitolo Ventotesimo Ora Se tu Ubbidici Diligentemente Alla voce Dell'Eterno Del tuo Dio Avendo cura Di mettere In pratica Tutti i suoi Comandamenti Che oggi Ti do Avverrà Che l'Eterno Il tuo Dio Ti renderà Eccelso Sopra tutte Le nazioni Della terra E tutte Queste Benedizioni Verranno Su te E si Compiranno Per te Se darai Ascolto Alla voce Dell'Eterno Dell'Idio Tuo Sarai Benedetto Nelle città E sarai Benedetto Nella campagna Benedetto Sarai Il frutto Delle tue Viscere Il frutto Del tuo Suolo Il frutto Del tuo Bestiame Benedetti I parti Delle tue Vacche Delle tue Pecore Benedetti Saranno Il tuo Paniere La tua Madia Sarai Benedetto Al tuo Entrare E Benedetto Al tuo Uscire L'Eterno Farà sì Che i tuoi nemici Quando si eleveranno Contro di te Saranno Sconfitti Dinanzi a te Usciranno Contro a te Per una via E per sette vie Fuggiranno Dinanzi a te L'Eterno Ordinerà Alla benedizione D'essert'eco Nei suoi Granai E in tutto ciò A cui Metterai Mano E ti benedirà Nel paese Che l'Eterno Il tuo Dio Ti dà L'Eterno Ti stabilirà Perché tu Gli sia Un popolo Santo Come T'ha giurato Se osserverai Comandamenti Dell'Eterno Che è il tuo Dio E se camminerai Nelle sue vie E tutti i popoli Della terra Vedranno Che tu Porti il nome Dell'Eterno E ti temeranno L'Eterno Il tuo Dio Ti colmerà Di beni Moltiplicando Il frutto Delle tue viscere Il frutto Del tuo bestiame Il frutto Del tuo suolo Nel paese Che l'Eterno Giurò Ai tuoi padri Di darti L'Eterno Aprirà Per te Il suo Buon tesoro Il cielo Per dare Alla sua terra La pioggia A suo tempo E per benedire Tutta l'opera Delle tue mani E tu Presterai A molte nazioni E non prenderai Nulla In prestito L'Eterno Ti metterà Alla testa E non alla coda E sarai sempre In alto E mai in basso Se obbedirai Ai comandamenti Dell'Eterno Del tuo Dio I quali oggi Ti do Perché tu li osservi E li metta in pratica E se non Divierai Né a destra Né a sinistra Da alcuna Delle cose Che oggi Vi comando Per andare Dietro Ad altri Dei E persevirli Ma Se non Ubbidisci Alla voce Dell'Eterno Del tuo Dio Se non Hai cura Di mettere In pratica Tutti i suoi Comandamenti E tutte le sue Leggi Che oggi Ti do Avverrà Che tutte Queste maledizioni Verranno Su te E si compiranno Per te Sarai maledetto Nella città E sarà maledetto Nella campagna Maledetti Saranno il tuo Paniere E la tua Madia Maledetto Sarà il frutto Delle tue Viscere Il frutto Del tuo Suolo Maledetti Parti Delle tue Vacche Delle tue Pecore Sarai maledetto Al tuo Entrare E maledetto Al tuo Uscire L'Eterno Manderà Contro di te La maledizione Lo spavento E la minaccia In ogni cosa A cui mettere In mano E che farai Finchè tu sia distrutto E tu perisca Rapidamente A motivo Della malvagità Delle tue azioni Per le quali M'avrai Abbandonato L'Eterno Farà sì Che la peste S'attaccherà A te Finchè S'attabbia Consumato Nel paese Nel quale Stai per entrare E per prenderne Possesso L'Eterno Ti colpirà Di consumzione Di febbre Di infamazione D'arsura Di aridità Di calbonchio Di ruggine Che ti perseguiteranno Finchè tu sia perito Il tuo cielo Sarà di rame Sopra il tuo capo E la terra Sotto di te Sarà di ferro L'Eterno Manderà Sul tuo paese Invece di pioggia Sabbie E polvere Che cadranno Sotto te Dal cielo Finchè tu sia distrutto L'Eterno Farà sì Che sarai messo In rotta Dinnanzi I tuoi nemici Uscirai contro A loro per una via In pien mezzodì Come il cieco Brancola nel buio Non prospererai Nelle tue vie Sarai del continuo Oppresso e spogliato E non vi sarà Alcuno Che ti soccorra Ti fidanzerai Con una donna E un altro Si giacerà con lei Edificherai Una casa Ma non vi abiterai Pianterai una vigna E non ne godrai Il frutto Il tuo bue Sarà ammazzato Sotto i tuoi occhi E tu non ne mangerai Il tuo asino Sarà portato via In tua presenza E non ti sarà reso Le tue pecole Saranno date Ai tuoi nemici E non vi sarà Chi ti soccorra I tuoi figlioli Le tue figliole Saranno dati In balia Ad un altro popolo I tuoi occhi Lo vedranno E languiranno Del continuo Dal rimpianto Di loro E la tua mano Sarà senza forza Un popolo Che tu non avrai Conosciuto Mangierà il frutto Della tua terra Di tutta la tua fatica E sarai del continuo Oppresso e schiacciato E sarai fuori di te Per le cose Che vedrai Con gli occhi tuoi L'Eterno Ti colpirà Sulle ginocchia E sulle cosce Con l'ulcera maligna Nella quale Non potrai guarire Ti colpirà Nelle piante Dei piedi E alla sommità Del capo L'Eterno Farà andare A te E al tuo re Che avrai costituito Sopra di te Verso la nazione Che né tu Nei padri tuoi Avrete conosciuta E qui vi servirai A dei stranieri Al legno E alla pietra E diverrai Lo stupore Il proverbio E la favola Di tutti i popoli Fra i quali L'Eterno Ti avrà condotto Porterai molta semenza Al campo E raccoglierai poco Poiché la locusta La divorerà Pianterai vini E le coltiverai Ma non berrai vino Ne coglierai uva Perché il verme Lo roderà Avrai degli olivi In tutto il tuo territorio Ma non ungerai d'olio Perché i tuoi olivi Perderanno il loro frutto Genererai figliuoli Figliuoli Ma non saranno tuoi Perché andranno In schiavitù Tutti i tuoi alberi E il frutto del tuo suolo Sarà preda della locusta Lo straniero Che sarà in mezzo a te Salirà sempre più alto Al di sopra di te E tu scenderai Sempre più in basso Egli presterà a te E tu non presterai a lui Egli sarà alla testa E tu in coda Tutte queste maledizioni Verranno su di te Ti perseguiteranno E ti raggiungeranno Finché tu sia distrutto Perché non avrai ubbidito Alla voce dell'Eterno Del tuo Dio Osservando i comandamenti E le leggi Che Egli ti ha dato Esse saranno Per te E per la tua progenie Come un segno E come un prodigio Imperpetuo E perché Non avrai servito All'Eterno Al tuo Dio Con gioia E di buon cuore In mezzo all'abbondanza D'ogni cosa Servirai i tuoi nemici Che l'Eterno Manderà contro di te In mezzo alla fame Alla sete Alla nudità E alla mancanza D'ogni cosa Ed essi ti metteranno Un gioco di ferro Sul collo Finché t'abbiano distrutto L'Eterno Farà muovere Contro di te Da lontano Dall'estremità Della terra Una nazione Pare all'aquila Che vola Una nazione Della quale Tu non intenderai La lingua Una nazione Dall'aspetto Trusce Che non avrà Riguardo al vecchio E non avrà Mercè del fanciullo Che mangerà Il frutto Del tuo bestiamo E il frutto Del tuo suolo Finché tu sia distrutto E non ti lascerà Di resto Né frumento Né mosto Né olio Né parti Delle tue vacche O delle tue pecore Finché t'abbia fatto Perire E t'assedierà In tutte le tue città Finché In tutto il tuo paese Cadano le alte Le forti mure Delle quale Avrai riposto La tua fiducia Essa ti assiederà In tutte le tue città In tutto il paese Che l'Eterno Il tuo Dio Ti avrà dato E durante la sedia Nella distretta Della quale Ti ridurrà Il tuo nemico Mangerà Il frutto Delle tue viscere Le carni Dei tuoi figlioli E delle tue figliole Che l'Eterno Il tuo Dio Ti avrà dati L'uomo Più delicato E più molle Tra voi Guarderà Di malocchio Il suo fratello La donna Che riposa Sul suo seno O i figlioli Che ancora Ti rimangono Non volendo Dare ad alcun Essi Le carni Dei suoi figlioli Delle quale Si ciberà Perché non Gli sarà rimasto Nulla In mezzo All'assedio E alla distretta La quale Nemici Ti avranno ridotto In tutte le tue città La donna Più delicata E più molle Fra voi Che per mollezza E delicatezza Non si sarebbe Tentata a posare La pianta Del piede in terra Guarderà Di malocchio Il marito Che le riposa Sul seno Il suo figliolo E la sua figliola Per non dar loro Nulla Della placenta Uscita Dal suo seno E dei figlioli Che metterà Al mondo Perché Mancando di tutto Se ne sciverà Di nascosto In mezzo All'assedio E alla penuria Alla quale I nemici Ti avranno ridotto In tutte le tue città Se non hai cura Di mettere in pratica Tutte le parole Di questa legge Scritte in questo libro Se non temi Questo nome glorioso E tremendo Dell'Eterno Dell'Idio tuo L'Eterno Renderà straordinarie Le piaghe Con le quali Colpirà te E la tua progenie Piaghe grandi E persistenti E malattie Maligne E persistenti E farà tornare Su di te Tutte le malattie D'Egitto Dinanzi alle quali Tu tremavi E si attaccheranno A te Ed anche Le molte malattie E le molte piaghe Non menzionate Nel libro Di questa legge L'Eterno Le farà venire Su te Finché tu sia Distrutto E voi rimarrete Poca gente Dopo Essere stati numerosi Come le stelle Del cielo Perché non avrai Ubbidito Alla voce Dell'Eterno Che è il tuo Dio E avverrà Che come l'Eterno Prendeva piacere A farti del bene E moltiplicarvi Così l'Eterno Prenderà piacere A farvi perire E a distruggervi E sarete strappati Dal paese Del quale Andrai a prender Possesso L'Eterno Ti disperderà Fra tutti i popoli Da un'estremità Della terra All'altra E là Servirai Ad altri dei Che né tu Nei tuoi padri Avete mai conosciuti Al legno E alla pietra E fra quelle nazioni Non avrai requie E non vi sarà Luogo di riposo Per la pianta Dei tuoi piedi Ma l'Eterno Ti darà qui Un cuore tremante Degli occhi Che si spegneranno E un'anima languente La tua vita Ti stradinnanzi Come sospesa Tremerai notte e giorno E non sarai sicuro Della tua esistenza La mattina dirai Fosse pur sera E la sera dirai Fosse pur mattina A motivo dello spavento Che avrai pieno il cuore E a motivo delle cose Che vedrai Con gli occhi tuoi L'Eterno Ti farà tornare In Egitto Su delle navi Per la via Delle quali Ti avevo detto Non la rivedrai ma più E là sarete offerti In vendita Ai vostri nemici Come schiavi E come schiave E mancherà Il compratore Deuteronomio Capitolo Ventinovesimo Queste sono le parole Del patto Che l'Eterno Comandò a Mosè Di stabilire Quei figlioli D'Israele Nel paese Di Moab Oltre il patto Che aveva stabilito Con essi Aureb Mosè convocò dunque Tutto Israele E disse loro Voi avete veduto Le vostre vesti Non si sono logorati Addosso Nei vostri calzari Vi si sono logorati Ai piedi Non avete mangiato pane Non avete bevuto vino Né bevanda alcolica Affinché Conosceste Che io Sono l'Eterno Il vostro Dio E quando siete arrivati A questo luogo E Sihon Re di Eshbon E Og Re di Basan Sono usciti Contro noi Per combattere Noi li abbiamo sconfitti Abbiamo preso Il loro paese E l'abbian dato Come proprietà Ai Rubeniti Ai Gaditi E alla mezza Tribù di Menasse Osservate dunque Le parole Di questo patto E mettetele in pratica Affinché prosperate In tutto ciò Che farete Oggi Voi Comparite Tutti davanti All'Eterno Al vostro Dio I vostri capi Le vostre tribù I vostri anziani I vostri ufficiali Tutti gli uomini D'Israele I vostri bambini Le vostre mogli Lo straniero Che è in mezzo Al tuo campo Da colui Che ti spacca la legna A colui Che ti attinge l'acqua Per entrare Nel patto Dell'Eterno Che è il tuo Dio Patto fermato Con giuramento Che l'Eterno Il tuo Dio Fa oggi con te Per stabilirti Oggi come suo popolo E per essere tuo Dio Come ti disse E come giurò Ai tuoi padri Ad Abramo Ad Isacco E a Giacobbe E non con voi Soltanto Fo io Questo patto E questo giuramento Ma con quelli Che stanno qui Oggi Con noi Davanti all'Eterno Che è il Dio Nostro E con quelli Che non sono qui Oggi con noi Poiché voi sapete Come abbiamo dimorato Nel paese Dell'Egitto E come siamo passati Per mezzo Alle nazioni Che avete Traversate E avete vedute Le loro abominazioni E gli idoli Di legno Di pietra D'argento E d'oro Che si Sono fra quelle Non siavi tra voi Uomo Donna O famiglia O tribù Che volga oggi Il cuore lungi Dall'Eterno Che è il vostro Dio Per andare a servire Agli dèi Di quelle nazioni Non siavi tra voi Radice alcuna Che produca Veleno E assenzio E non avvenga Che alcuno Dopo aver udito Le parole Di questo giuramento Si lusinghi In cuor suo Dicendo Avrò pace Anche se camminerò Secondo la caparbietà Del mio cuore In guisa Che chi ha bevuto Largamente Tragga perdizione Chi ha sete L'Eterno Non vorrà Perdonarli Ma in tal caso L'ira dell'Eterno E la sua gelosia Si infiammeranno Contro quell'uomo Tutte le maledizioni Scritte in questo libro Si poseranno su lui E l'Eterno Cancellerà il nome di lui Di sotto al cielo L'Eterno Lo separerà Per la sua sventura Da tutte le tribù Di Israele Secondo tutte le maledizioni Del patto scritto In questo libro Della legge La generazione A venire I vostri figlioli Che sorgeranno Dopo di voi Lo straniero Che verrà Dal paese lontano Anzi tutte le nazioni Quando vedranno Le piaghe Di questo paese E le malattie Onde l'Eterno L'avrà afflitto E che tutto il suo suolo Sarà zolfo Sale Assura E non vi sarà più Sementa Né prodotto Né erba Di sorta Che vi cresca Come dopo la rovina Di Sodoma Gamora Di Adma E di Zeboim Che l'Eterno Distrusse Nella sua ira E nel suo furore Diranno Perché l'Eterno Ha trattato Così questo paese Perché l'ardore Di questa grandira E si risponderà Perché Hanno abbandonato Il patto Dell'Eterno Dell'iddio De loro padre Il patto Che egli fermò Con loro Quando li ebbe Tratti dal paese D'Egitto Perché sono andati A servire Ad altri dei E si sono prostrati Dinanzi a loro Dei Che essi Non aveva mai Conosciuti E che l'Eterno Non aveva assegnati loro Per questo Si è accesa L'ira dell'Eterno Contro questo paese Per far venire Su di esso Tutte le maledizioni Scritte In questo libro E l'Eterno Li ha diverti Dal loro suolo Con ira Con furore Con grande indignazione E li ha gettati In un altro paese Come oggi si vede Le cose occulte Appartengono All'Eterno Al nostro Dio Ma le cose rivelate Sono per noi E per i nostri Figlioli In perpetuo Perché mettiamo In pratica Tutte le parole Di questa legge Deuteronomio Capitolo Trentesimo Or quando Tutte queste cose Che io T'ho poste Dinanzi La benedizione La maledizione Si saranno Effettuate Per te E tu te le Ridurrai A memoria Fra tutte le Nazioni Dove L'Eterno Il tuo Dio Ti avrà sospinto E ti convertirai All'Eterno Al tuo Dio E ubbidirai La sua voce Tu e i tuoi figlioli Con tutto il tuo cuore Con tutta l'anima tua Secondo tutto ciò Che oggi Ti comando L'Eterno Il tuo Dio Farà ritornare I tuoi dalla schiavitù Avrà pietà E ti raccoglierà Di nuovo Di fra tutti i popoli Fra i quali L'Eterno Il tuo Dio T'aveva disperso Quando anche I tuoi esoli Fossero all'estremità Dei cieli L'Eterno Il tuo Dio Ti raccoglierà Di là E di là Ti prenderà L'Eterno Il tuo Dio Ti ricondurrà Nel paese Che i tuoi padri Avevano posseduto E tu lo possederai Ed Egli Ti farà del bene E ti moltiplicherà Più dei tuoi padri L'Eterno Il tuo Dio Circonderà Il tuo cuore E il cuore Della tua progenia Affinché tu ami L'Eterno Il tuo Dio Con tutto il tuo cuore Con tutta l'anima tua E così tu viva L'Eterno Il tuo Dio Farà cadere Tutte queste maledizioni Sui tuoi nemici E su tutti quelli Che ti avranno odiato E perseguitato E tu ti convertirai Ubbidirai Alla voce Dell'Eterno E metterai in pratica Tutti questi comandamenti Che oggi ti do L'Eterno Il tuo Dio Ti colmerà Di beni Facendo prosperare Tutta l'opera Delle tue mani E il frutto Delle tue viscere E il frutto Del tuo bestiame E il frutto Del tuo suolo Poiché l'Eterno Si compiacerà di nuovo Nel farti del bene Come si compiacque Nel farlo Ai tuoi padri Perché ubbidirai Alla voce Dell'Eterno Che è il tuo Dio Osservando I suoi comandamenti E i suoi precetti Scritti In questo libro Della legge Perché ti sarai Convertito All'Eterno Al tuo Dio Con tutto il tuo cuore Con tutta l'anima tua Questo comandamento Che oggi ti do Non è troppo alto Per te Né troppo lontano Da te Non è nel cielo Perché tu dica Chi salirà per noi Nel cielo E ce lo reccherà E ce lo farà udire Perché lo mettiamo In pratica Non è Di là dal mare Perché tu dica Chi passerà per noi Di là dal mare E ce lo reccherà E ce lo farà udire Perché lo mettiamo In pratica Invece questa parola È molto vicina a te E nella tua bocca E nel tuo cuore Perché tu la metta In pratica Vedi Io pongo oggi Davanti a te La vita e il bene La morte e il male Poiché io ti comando Oggi D'amare l'Eterno Il tuo Dio Di camminare Nelle sue vie D'osservare I suoi comandamenti Le sue leggi I suoi precetti Affinché tu viva E ti moltiplichi E l'Eterno Il tuo Dio Ti benedica Nel paese Dove stai per entrare Per prenderne possesso Ma se il tuo cuore Si volge indietro E se tu non obbidisci E ti lasci trascinare A prostrarti davanti Ad altri Dei A servir loro Io vi dichiaro oggi Che certamente Perirete Che non prolungherete I vostri giorni Nel paese Per entrare in possesso Del quale voi siete In procinto Di passare il Giordano Io prenderò oggi A testimoni Contro a voi Il cielo e la terra Che io ti ho posto Davanti la vita E la morte E la benedizione E la maledizione Scegli dunque La vita Onde tu viva Tu e la tua progenie Amando l'Eterno Il tuo Dio Ubbidendo la sua voce Tenendoti stretto a Lui Poiché Egli è la tua vita E colui che prolunga I tuoi giorni Affinché tu possa abitare Sul suolo Che l'Eterno Giorò di dare Ai tuoi padri Abramo Isacco E Giacobbe Deuteronomio Capitolo Trentunesimo Mosè andò E rivolse ancora Queste parole A tutto Israele Disse loro Io sono oggi In età di centovent'anni Non posso più andare Venire E l'Eterno Mi ha detto Tu non passerai Questo Giordano L'Eterno Il tuo Dio Sarà quelli Che passerà davanti a te Che distruggerà Dinanzi a te Quelle nazioni E tu possederai Il loro paese E Giosuè Passerà davanti a te Come l'Eterno Ha detto L'Eterno Tratterà Quelle nazioni Come trattò Sion E Og Re degli amorei Che gli distrusse Col loro paese L'Eterno Le darà In vostro potere E voi Le tratterete Secondo tutti Gli ordini Che ho dato Siate forti Fatevi animo Non temete Non vi spaventate Di loro Perché l'Eterno Il tuo Dio È quelli Che cammina Teco Egli Non ti lascerà E non ti abbandonerà Poi Mosè Chiamò Giosuè E gli disse In presenza Di tutto Israele Sii forte E fatti d'animo Perché tu Entrerai Con questo popolo Nel paese Che l'Eterno Giurò Ai loro padri Di dar loro E tu sarai Quello Che Gli ne darai Il possesso E l'Eterno Cammina Egli stesso Davanti a te Egli sarà Con te Non ti lascerà E non ti abbandonerà Non temere E non ti perdere D'animo E Mosè Scrisse Questa legge E la diede Ai sacerdoti I figliuoli Di Levi Che portano L'arca Del patto Dell'Eterno E a tutti Gli anziani D'Israele Mosè Diede loro Quest'ordine Alla fine D'ogni settennio Al tempio Dell'anno Di remissione Alla festa Delle capanne Quando tutto Israele Verrà a presentarsi Davanti all'Eterno Al tuo Dio Nel luogo Che egli avrà scelto Leggerai questa legge Ed innanzi a tutto Israele In guisa Che egli Loda Radunerai Il popolo Gli uomini Le donne Bambini Con lo straniero Che sarà entrato Nelle tue porte Affinché Odano Imparino A temere L'Eterno Il vostro Dio E abbiano Cura Di mettere In pratica Tutte le parole Di questa legge E i loro figlioli Che non ne avranno Ancora avuto Conoscenza Ludranno E impareranno A temere L'Eterno Il vostro Dio Tutto il tempo Che vivete Nel paese Del quale Voi andate A prendere Possesso Passando Il Giordano E l'Eterno Disse a Mosè Ecco Il giorno Della tua morte S'avvicina Chiama Giosuè E presentatevi Nella tenda Di convegno Perchè io Gli dia I miei ordini Mosè E Giosuè Dunque Andarono E si presentarono Nella tenda Di convegno L'Eterno Apparve Nella tenda In una colonna Di nuvola E la colonna Di nuvola Si fermò All'ingresso Della tenda E l'Eterno Disse a Mosè Ecco Tu stai Per addormentarti Con i tuoi padri E questo popolo Si leverà E si prostituirà Andando dietro Agli dei stranieri Del paese Nel quale Va a stare E mi abbandonerà E violerà Il mio patto Che io Ho fermato Con lui In quel giorno L'Iramia Si infiammerà Contro a lui E io lo abbandonerò Nasconderò Loro La mia faccia E saranno Divorati E molti mali E molti angosce Cadranno Loro addosso Tal che in quel giorno Diranno Questi mali Non ci sono Essi caduti Addosso Perché il nostro Dio Non è in mezzo A noi E io In quel giorno Nasconderò Del tutto La mia faccia Cagione Di tutto Il male Che avranno Fatto Rivolgendosi Ad altri Dei Scrivetevi dunque Questo cantico E insegnatelo Ai figlioli D'Israele Mettetelo Loro In bocca Affinché Questo cantico Mi serva Di testimonio Contro I figlioli D'Israele Quando io Li avrò Introdotti Nel paese Che promisi A loro padri Con giuramento Paese Ove scorre Il latte E il miele Ed essi Avranno mangiato E si saranno Saziati E ingrassati E si saranno Rivolti Ad altri Dei Per servirli E avranno Sprezzato me E violato Il mio patto E quando Molti mali E molte angosce Saranno piombati Loro addosso Allora Questo cantico Leverà la sua voce Contro di loro Come un testimonio Poiché Esso Non sarà Dimenticato E rimarrà Sulle labbra Dei loro postri Affinché Io Conosco Quali sono I pensieri Che essi Concepiscono Anche ora Prima che io Li abbia Introdotti Nel paese Che giurai Di dar loro Così Mosè Scrisse Quel giorno Questo cantico E lo Insegnò Ai figlioli Di Israele Poi L'Eterno Dette I suoi ordini A Gesù E figliolo Di Nun E gli disse Sì Forte E fatti Animo Poiché Tu sei Quello Che introdurrà I figlioli D'Israele Nel paese Che giurai Ecco Oggi Mentre sono Ancora Vivente Fra voi Siete Stati Ribelli Contro L'Eterno Quanto Più Lo Sarete Dopo La Mia Morte Radunate Presso Di me Tutti Gli Anziani Delle Vostre Tribù E I Vostri Ufficiali Ed Io Farò Loro Dire Queste Parole E Prenderò Testimoni Contro Di Loro Il cielo E La Terra Poiché Io So Che Dopo La Mia Morte Voi Certamente Vi Corromperete Lascerete La Via Che Vi Ho Prescritta E La Sventura Vi Incoglierà Nei Giorni A Venire Perché Avrete Fatto Ciò Che È Male Agli Occhi Dell'Eterno Provocandolo A Sdegno Con L'opera Delle Vostre Mani Mose Dunque Pronunziò Dal Principio Alla Fine Le Parole Di Questo Cantico In Presenza Di Tutta La Radunanza Di Israele Deuteronomio Capitolo Trentaduesimo Cantico Di Mosè Porgete Orecchio Ocieli Ed Io Parlerò E Ascolti La Terra Le Parole Della Mia Bocca Si Spanda Il Mi Un Segnamento Come La Pioggia Stilli La Mia Parola Come La Rugiada Come La Pioggiarella Sopra La Verdura E Come Un Acquazzone Sopra L'erba Poiché Io Proclamerò Il Nome Dell'Eterno Magnificate Il Nostro Dio Quanto Alla Rocca L'opera Sua È Perfetta Poiché Tutte Le Sue Vie Sono Giustizia È Un Dio Fedele E Senza Iniquità Egli È Giusto E Retto Ma Essi Si Sono Condotti Male Verso Di Lui Non Sono Suoi Figliuoli L'infamia È Di Loro Razza Storta E Perversa E Sensato E Privo Di Saviezza Non È Egli Il Padre Tuo Che T'ha Creato Non È Egli Colui Che T'ha Fatto E T'ha Stabilito Ricordati Dei Giorni Antichi Considera Gli Anni Dell'età Passate Interroga Tuo Padre Ed Egli Te Lo Farà Conoscere I Tuoi Vecchi Ed Essi Te Lo Diranno Quando L'Altissimo Diede Alle Nazioni La Loro Popoli Tenendo Conto Del Numero Dei Figlioli D'Israele Poiché La Parte Dell'Eterno È Il Suo Popolo Giacobbe È La Porzione Della Sua Eredità Egli Lo Trovò In Una Terra Deserta In Una Solitudine Piena D'urlie Di Desolazione Egli Lo Circondò Ne Prese Cura Lo Costudì Come La Pupilla Dell'occhio Suo Pari All'aquila Che Desta La Sua Anidata Si Lavra E Vola Sopra I Suo Piccini Spiega Le Sue Ali Li Prende E Porta Sulle Penne L'Eterno Solo L'ha Condotto E Nessun Dio Straniero Era Con Lui Egli Ha Fatto Passare A Cavallo Sulle Alture Della Terra E Israele Ha Mangiato Il Prodotto Dei Campi Gli Ha Fatto Succhiare Il Miele Che Crema Delle Vacche Il Latte Delle Pecore Gli Ha Dato Il Grasso Delle Agnelli Dei Montoni Di Basane Dei Capri Col Fior Di Farina Del Frumento E Tu Hai Bevuto Il Vino Generoso Il Sangue Dell'Uva Ma Jeshurun S'è Fatto Grasso Ed Ha Rincalcitrato Ti Sei Fatto Grasso Grasso E Pingue Ha Abbandonato L'Eterno Che L'ha Fatto E Ha Spezzato La Rocca Della Sua Salvezza Essi L'ha Mosso A Gelosia Con Divinità Straniere L'hanno Irritato Con Una Pirminazione Hanno Sacrificato Ai Demoni Che Non Sono Dio E Dei Che Non Avevano Conosciuti Dei Nuovi Apparsi Di Recente Innanzi Quali I Vostri Padri Non Avevan Tremato Hai Abbandonato La Rocca Che E L'Eterno L'ha Veduto E Ha Riettato I Suoi Figlioli E Le Sue Figliole Che L'avevano Irritato E Ha Detto Io Nasconderò Loro La Mia Faccia E Starò A Vedere Quale Ne Sarà La Fine Poiché Sono Una Razza Quanto Mai Perversa Figlioli In Cui Non È Fidelità Di Sorta Essi M' Mosso A Gelosia Con Ciò Che Non È Dio E M'Hanno Irritato Quei Loro Idoli Vani E Io Li Muoverò A Gelosia Con Gente Che Non È Un Popolo Li Irriterò Con Una Nazione Stolta Poiché Un Fuoco Si Acceso Nella Mia Ira E Divamperà Fino In Fondo Al Soggiorno Dei Morti Divorerà La Terra I Suoi Prodotti E Infiammerà Le Fondamenta Delle Montagne Io Accumulerò Su Di Loro Dei Mali Esaurirò Contro A Loro Tutti I Miei Strali Essi Saranno Consumati Dalla Fame Divorati Dalla Febbre Da Mortifera Pestilenza Lancerò Contro A Loro Le Zanne Delle Fiere Col Veleno Delle Bestie Che Striccian Nella Polvere Di Fuori La Spada E Di Dentro Il Terrore Sbargeranno Il Lutto Mietendo Giovani E Fanciulle Lattanti E Uomini Canuti Io Direi Li Spazzero Via Come Un Soffio Farò Sparire La Loro Memoria Di Fra Gli Uomini Se Non Temessi Gli Insulti Del Nemico E Che Loro Avversari Prendendo Abbaglio Fossero Tratti A Dire E Stata La Nostra Potente Mano E Non L'Eterno Che Ha Fatto Tutto Questo Se Fosser Savi Lo Capirebbero Consilerebbero La Fine Che Li Aspetta Come Potrebbe Uno Solo Inseguire Mille E Due Metterle In Fuga Diecimila Se La Rocca Loro Non Li Avesse Venduti Se L'Eterno Non Li Avesse Dato In Mano Del Nemico Poiché La Rocca Loro Non È Come La Nostra Rocca I Nostri Stessi Nemici Ne Son Giudici Ma La Loro Vigna Vien Dalla Vigna Di Sodoma E Dalle Campagne Di Gomorra Le Loro Uve Son Uve Avvelenate I Loro Grappoli Amari Il Loro Vino È Un Tossico Di Serpenti Un Crudel Veleno D'aspidi Tutto Questo Non È Ritenuto In Serbo Presso Di Te Sicilano Nei Tuoi Tesori A Me La Vendetta E La Loro Piede Vascillerà Poiché Il Giorno Della Loro Calamità È Vicino E Ciò Che Per Loro È Preparato S'affretta Venire Sì L'Eterno Giudicherà Il Suo Popolo Ma Avrà Pietà Dei Suoi Servi Quando Vedrà Che La Loro Forza È Sparita E Che Non Rimarran Più Tra Loro Né Schiavo Né Libero Allora Egli Dirà Ove Vino Delle Loro Libazioni Sì Lavevino Essi A Soccorrerli A Coprirvi Dalla Loro Protezione Ora Vedete Che Io Solo Son Dio E Che Non Vè Altro Dio Accanto A Me Io Fo Morire Fo Vivere Ferisco Eri Sano E Non Vè Chi Possa Liberare Dalla Mia Mano Sì Io Alzo La Mia Mano Al Cielo E Dico Com' È Vero Romano A Giudizio Farò Vendetta Dei Mie Nemici E Darò Ciò Che Si Meritano A Quelli Che Modiano Inebrigherò Di Sangue Le Mie Frecce Del Sangue Degli Uccisi E Dei Prigionieri La Mia Spada Divorerà La Carne Le Teste Dei Condottieri Dei Nemici Nazioni Cantate Le Lodi Del Suo Popolo Poiché L'Eterno Vendica Il Sangue Dei Suoi Servi Fa Ricadere La Sua Vendetta Sopra I Suoi Avversari Ma Si Mostra Propizio Alla Sua Terra E Al Suo Popolo E Mosè Venne Con Gesù Figliolo Di Nun E Pronunziò In Presenza Del Popolo Tutte Le Parole Di Questo Cantico E Quando Mosè Ebbe Finito Di Pronunziare Tutte Queste Parole Dinanzi A Tutto Israele Disse Prendete A Cuore Tutte Le Parole Con Le Quali Testimonio Oggi Contro A Voi Le Prescriverete Ai Vostri Figlioli Onde Abbian Cura Di Mettere In Pratica Tutte Le Parole Di Questa Legge Poiché Questa Non È Una Parola Senza Valore Per Voi Anzi È La Vostra Vita E Per Questa Parola Prolungherete I Vostri Giorni Nel Paese Del Quale Andate A Prender Possesso Passando Il Giordano E Quello Stesso Giorno L'Eterno Parlo A Mosè Dicendo Sali Su Questo Monte Di Abarin Sul Monte Nebo Che È Nel Paese Di Moab Di Faccia A Gerico E Mira Mira Il Paese Di Canan Che Io Do A Possedere I Figlioli D'Israele Tu Morrai Sul Monte Sul Quale Stai Per Salire E Come Aronne Tuo Fratello È Morto Sul Monte Di Or Ed È Stato Riunito Al Suo Popolo Perché Commetteste Un'infedeltà Contro Di Me I Meglio I Figlioli D'Israele Alle Acque Di Meriba A Cades Nel Deserto Di Zin E Perché Non Mi Santificaste In Meglio I Figlioli D'Israele Tu Vedrai Il Paese Davanti A Te Ma Là Nel Paese Che Io Do Ai Figlioli D'Israele Non Entrerai Deuteronomio Capitolo Trentatreesimo Or Questa È La Benedizione Con La Quale Mosè Uomo Di Dio Benedisse I Figlioli D'Israele Prima Di Morire Disse Dunque L'Eterno È Venuto Dal Sinai E Si È Levato Sul Loro Da Seir Ha Fatto Splendere La Sua Luce Dal Monte Di Paran E Giunto Dal Mezzo Delle Sante Miriadi Dalla Sua Destra Usciva Per essi Il Fuoco Della Legge Certo L'Eterno Amma I Popoli Ma I Suoi Santi Son Tutti Agli Ordini Suoi Ed Essi Si Tennero Ai Suoi Piedi E Raccolsero Le Tue Parole Mosè Ci Ha Dato Una Legge Eredità Della Radunanza Di Giacobbe Ed Egli E Stato Re In Escherum Quando Sadunavano I Capi Del Popolo E Tutti Assieme Le Tribù D'Israele Viva Ruben Che Egli Non Muoia Ma Siano Gli Uomini Suoi Ridotti A Pochi E Questo È Per Giuda Egli Disse Ascolta O Eterno La Voce Di Giuda E Riconduscilo Al Suo Popolo Con Tutte Le Sue Forze Egli Lotta Per Esso Tu Gli Sarai D'aiuto Contro I Suoi Nemici Poi Disse Di Levi I Tuoi Tumim E I Tuoi Urim Appartengono All'uomo Pio Che Ti Sei Scelto Che Tu Provasti A Massa E Col Non Riconosce I Suoi Fratelli E Nulla Sa Dei Propri Figliuoli Perché I Leviti Osservano La Tua Parola E Sono Custodi Del Tuo Patto Essi Insegnano I Tuoi Statuti A Giacobbe E La Tua Leggia Israele Mettono L'incenso Sotto Le Tue Nari E L'Olocausto Sopra Il Tuo Altare O Eterno Benedici La Sua Forza E Gradisci L'opera Delle Sue Mani Trafiggi Le Rene Di Quelli Che Insorgono Contro Di Lui E Che Gli Sono Nemici Sì Che Non Possano Risorgere Di Beniamino Disse L'amato Dell'Eterno Abiterà Sicuro Presso Di Lui L'Eterno Gli Farà Riparo Del Continuo E Abiterà Fra Le Colline Di Lui Poi Disse Di Giuseppe Il Suo Paese Sarà Benedetto Dall'Eterno Con Doni Più Preziosi Del Cielo E Con La Rugiada E Con Le Acque Dell'Abisso Che Giasce In Basso Coi Frutti Più Preziosi Che Il Sole Matura Con Le cose Più Squisite Che Ogni Luna Reca Con Migliori Prodotti Dei Monti Antichi Coi Doni Più Preziosi Dei Colli Eterni Coi Doni Preziosi Della Terra Di Quanto Essa Racchiude Il favore Di Colui Che Stava Nel Pruno Venga Sul Capo Di Giuseppe Sulla Fronte Di Colui Che Principe Tra Suoi Fratelli Del Suo Toro Primogenito Egli Ha La Maestà Le Sue Corna Son Corna Di Bufalo Con Esse Darà Di Cozzo Nei Popoli Tutti Quanti Assieme Fino All' Estremità Della Terra Tali Sono Le Miriadi Di Efraim Tale Sono Le Migliaia Di Menasse Poi Disse Di Zabulon Rallegrati O Zabulon Nel Tuo Uscire E Tu Issaccar Nelle Tue Tende Essi Chiameranno I Popoli Al Monte E Qui Vi Offriranno Sacrifici Di Giustizia Poiché Essi Succheranno La Dovizia Del Mare I Tesori Nascosti Nell' Poi Disse Di Gad Benedetto Colui Che Mette Gad A Largo Egli Sta Nella Sua Dimora Come Una Leonessa Esbrana Braccio E Cranio E Si Scelto Le Primizie Del Paese Poiché Quivi È La Parte Riservata Al Condottiero Ed Egli Ve Giunto Alla Testa Del Popolo Ha Compiuto La Giustizia Dell'Eterno E Suoi Decreti Assieme Ad Israele Poi Disse Di Dan Dan È Un Leoncello Che Balza Da Basan Poi Disse Di Neftali O Neftali Sazio Di Favori E Ricolmo Di Benedizioni Dell'Eterno Prendi Possesso Dell'Occidente Del Mezzodì Poi Disse Di Asher Benedetto Sia Asher Tra I Figlioli D'Israele Sia Il Favorito Dei Suoi Fratelli E Tuffi Il Suo Pien L'olio Sian Le Sue Sbarre Di Ferro E Di Rame E Duri Quanto I Tuoi Giorni La Tua Requie O Jesherun Nessuno È pari a Dio Che Sul Carro Dei Cieli Corre In Tuo Aiuto Che Nella Sua Maestà S'Avanza Sulle Nubi L'I Dio Che Ad Antico È Il Tuo Rifugio E Sotto A Te Stanno Le Braccia Eterne Egli Scaccia Dinanzi A Te Il Nemico E Ti Dice Distruggi Israele Starà Sicuro Nella Sua Dimora La Sorgente Di Giacobbe Sgorgerà Solitare In Un Paese Di Frumento E Di Mosto E Dove Il Cielo Stilla La Rugiada Te Felice O Israele Chi È Pari A Te Un Popolo Salvato Dall'Eterno Che È Lo Scudo Che Ti Protegge La Spada Che Ti Fa Trionfare I Tuoi Nemici Verranno A Bland Dirti E Tu Calpesterai Le Loro Alture Deuteronomio Capitolo Trentaquattresimo Poi Mosè Salì Dalle Pianure Di Moab Sul Montenebo In Vettal Pisca Che È Di Faccia Gerico E L'Eterno Gli Fece Vedere Tutto Il Paese Galat Fino Adan Tutto Neftali Il Paese Di Efraim Di Menasse Tutto Il Paese Di Giuda Fino Al Mare Occidentale Il Mezzogiorno Il Bacino Del Giordano E La Valle Di Gerico Città Delle Palme Fino A Zoar E L'Eterno Gli disse Questo è Il Paese Riguardo Al Quale Io Fece Ad Abramo A Isacco A Giacobbe Questo Giuramento Io Lo Darò La Tua Progenie Io Te L'ho Fatto Vedere Con I Tuoi Occhi Ma Tu Non Ventrerai Mosè Servo Dell'Eterno Morì Quivi Nel Paese Di Moab Come L'Eterno Aveva Comandato E L'Eterno Lo Seppellì Nella Valle Nel Paese Di Moab Di Rimpetto A Bet Peor E Nessuno Fino A Questo Giorno Ha Mai Saputo Dove Fosse La Sua Tomba Or Mosè Aveva Cento Vent' Anni Quando Morì La Vista Non Gli Si Era Indebolita E Il Vigore Non Gli Era Venuto Meno E I Figlioli D'Israele Lo Piancero Nelle Pianure Di Moab Per Trenta Giorni E Si Compieron Così I Giorni Del Pianto Del Lutto Per Mosè E Giosuè Figliolo Di Nun Fu Ripieno Dello Spirito Di Sapienza Poiché Mosè Gli Aveva Imposto Le Mani E Figlioli D'Israele Gli Ubbidirono E Fecero Quello Che L'Eterno Aveva Comandato A Mosè Non È Mai Più Sorto In Israele Un Profeta Simile A Mosè Col Quale L'Eterno Abbia Trattato Faccia Faccia Né Uno È Simile A Lui In Tutti I Quei Segni Miracoli Che Dio Lo Mandò A Fare Nel Paese D'Egitto Contro Faraone Contro Tutti I Suoi Servi E Contro Tutto Il Suo Paese Né Simile A Lui In Quegli Atti Potenti E In Tutte Quelle Gran Cosse Tremende Che Mosè Fece Dinanzi Agli Occhi Di Tutto Israele